I illustri ospiti che animeranno il dibattito iniziamo dal ministro dell'istruzione e merito Giuseppe Valditara al ministro dell'università Anna Maria Bernini al ministro della famiglia Eugenia Roccella al direttore di Raiinus 24 Paolo Petrecca al presidente di cultura e identità Edoardo Labini modererà l'incontro il presidente di azione universitaria Nicola D'Ambrosio ministro dello sport Andrea Abodi Abbiamo quindi illustri ministri e illustre personalità volevo dire che questi tre termini istruzione, famiglia e sport sono per noi importantissimi il nostro ministero ha aggiunto un altro termine che è merito voi sapete noi cosa intendiamo per merito intendiamo aiuto e supporto agli studenti più bisognosi come dice la Costituzione intendiamo il fatto che tutti devono partire dallo stesso livello e che sarà il merito e non il portafoglio a fare la differenza questo è da sempre il nostro DNA per noi è importantissimo nella scuola, nell'università ministro Bernini dove vogliamo fermare la fuga dei cervelli dove lei giustamente ha dichiarato che ci saranno borse di studio anche per gli studenti bisognosi nell'università la famiglia, la famiglia ministro Roccella è importantissima è il luogo dove i ragazzi vanno educati la famiglia della libertà di mandare i figli nelle scuole dove le famiglie decidono di mandarli la famiglia della solidarietà di avere supporto per affrontare i costi per affrontare il diritto allo studio come il caro Libri e soprattutto la famiglia che cerchi di educare un fenomeno che è quello del bullismo, che è quello di una situazione educativa molto controversa che ci troviamo ad affrontare delle scuole che è stato oggetto anche di argomentazioni del ministro Valditara lo sport, ministro Abodi è importantissimo parlando di sport volevo rivolgere un pensiero commosso a Sinisa Mijailovic che oggi ci ha lasciato e che è stato un grande uomo, un grande sportivo a Sinisa Mijailovic che oggi ci ha lasciato un po' 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 a Sinisa Mijailovic che oggi ci ha lasciato un po' 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E poi mi permetto di strappare qualche minuto per portare un pochino quella che è la visione dei ragazzi e di una generazione sul tema dell'istruzione, dell'università e del merito. E tutti si saranno resi conto di come sia stato centrale il dibattito in queste settimane sulla denominazione che il ministero dell'istruzione modificava, andato ad inserire quella parolina, parola merito, demonizzata. In quella maniera sembrava quasi distruggere tutto ciò che ci potesse essere di positivo nel ministero dell'università. Ecco io ci tenevo a portare su questo palco oggi la narrazione di una generazione che non la pensa così e che crede che non c'è nulla di più bello per un ragazzo che si diploma, si laurea o arriva al suo primo contratto di lavoro di poter raccontare ho meritato quello che sto avendo, me lo sono meritato. E quindi viva il merito, lo gridiamo ancora più forte, c'è una generazione che lo pensa, che ci crede, che lo vuole raccontare e viva il merito come strumento per far ripartire finalmente in Italia quell'ascensore sociale che da troppi anni è ancora bloccato. E' su queste premesse che rivolgo la prima delle mie domande al ministro del ministero dell'istruzione e del merito Valditara perché se è vero che il merito è tutto ciò a cui una generazione può aggrapparsi per poter vincere nella vita è altrettanto vero che per poter meritare un qualcosa nella vita i ragazzi debbono partire tutti dallo stesso piano e le ultime statistiche al malauria ci raccontano di come purtroppo il nostro paese vive l'annosa piaga del tasso di abbandoni dopo il primo anno di università, ben il 25% dei ragazzi, quasi un ragazzo su tre. Ecco ministro, quali sono le proposte che ha in mente il suo ministero e che cosa si intende fare per l'orientamento in ingresso per i ragazzi che passano dalle scuole superiori alle università? Grazie e grazie agli organizzatori e un caro saluto a tutti voi. Io partirei da una considerazione, rovesciando un po' la narrazione. L'attuale scuola è una scuola tendenzialmente classista. Cosa vuol dire che l'attuale scuola è una scuola tendenzialmente classista? Vuol dire che questa scuola non riesce a realizzare quella promozione sociale che la scuola italiana sino alla metà degli anni settanta ha realizzato. Dall'inizio degli anni cinquanta alla metà degli anni settanta la scuola italiana ha realizzato quella straordinaria funzione di ascensore sociale a cui si faceva riferimento prima. Allora la grande sfida è cambiare l'impostazione. La grande sfida è far sì che questa scuola che ha dei docenti valorosissimi sia messa nelle condizioni di far sì che un ragazzo che proviene da una famiglia modesta possa realizzarsi nella vita esattamente come quel ragazzo che proviene da una famiglia benestante. E allora per fare questo ovviamente noi abbiamo più strumenti. E per fare questo e per evitare che quel ragazzo che proviene magari da una famiglia modesta si disperda perché la dispersione scolastica è un dramma, ce lo dice anche l'Unione Europea così come anche l'insuccesso nella carriera successiva in università è un dramma. Per fare questo noi dobbiamo creare alcuni presupposti che sono fondamentali. Si è accennato al tema dell'orientamento. L'orientamento è strategico, è decisivo. Nei prossimi giorni partirà una lettera, anzi lunedì partirà una lettera alle famiglie dei ragazzini di scuola media. Perché questo? Perché noi abbiamo voluto intanto dare un segnale, cioè dare delle indicazioni, fornire delle indicazioni a queste famiglie che devono scegliere, devono scegliere il percorso successivo per i propri figli per far capire a loro, per far sapere a loro quali sono le potenzialità occupazionali della regione in cui vivono, quali sono le possibilità di successo professionale che il ragazzo avrà se sceglierà un determinato percorso. Allora la scelta deve essere una scelta consapevole. La scelta deve essere consapevole, il ministero, la scuola, deve mettere a disposizione delle informazioni in questa grande alleanza che coinvolga famiglie, docenti, studenti ovviamente, e parti, associazioni produttive, associazioni del territorio. Questo è un primo importante segnale. Poi certamente l'orientamento deve essere qualcosa che si svolge sino al termine delle superiori. L'orientamento deve vedere il ruolo anche decisivo di un docente, il docente tutor, che deve essere introdotto nelle nostre scuole e che deve fra l'altro svolgere anche una funzione di cooperazione, una logica di team con gli insegnanti della classe. Deve prendersi carico di quei ragazzi che hanno più difficoltà, ma deve anche prendersi carico di quei ragazzi che magari in classe si annoiano perché sono molto bravi e hanno bisogno di accelerare. Deve prendersi carico di chi ha necessità di andare oltre. Allora una scuola che faccia dell'orientamento un pilastro, che faccia dell'insegnamento personalizzato, che in sostanza sia una scuola che tiri fuori i talenti, che tiri fuori le abilità, che tiri fuori le attitudini, che le valorizzi. A me piace ricordare questo aneddoto. Quando io ero un ragazzo avevo un compagno che era bravissimo nella attività manuale, tirava fuori da copertoni di camion degli oggetti meravigliosi, però veniva sistematicamente bocciato in matematica e in italiano. Ecco, se quel ragazzo avesse avuto una scuola che lo indirizzava, una scuola che tirava fuori i suoi talenti meravigliosi, un sistema formativo che gli offriva delle opportunità, quel ragazzo avrebbe avuto uno straordinario successo. Quel ragazzo si sarebbe realizzato nella vita. E probabilmente dobbiamo anche avere il coraggio di mettere in discussione certi concetti consolidati. Noi siamo cresciuti con un'idea unitaria di intelligenza. Ci sono più intelligenze. Non soltanto c'è un'intelligenza astratta, c'è un'intelligenza anche concreta. Quel ragazzo forse aveva un'intelligenza superiore alla mia, che pure prendevo otto in latino e in greco, perché lui aveva il dono di questa straordinaria creatività. E allora tirar fuori i talenti, garantire a loro di potersi esplicare e realizzare, significa creare finalmente una scuola che non sia più classista, ma una scuola che dia una speranza e una opportunità a tutti i nostri giovani. Grazie, grazie Ministro. Dall'istruzione all'università, Ministro Bernini, io ho il dovere di strapparle una promessa oggi. Vede, ricorre qualche settimana fa l'anniversario della scomparsa di un giovane studente universitario, Davide Giri. Davide era un nostro coetaneo, un ragazzo come noi, che aveva studiato, che si stava formando con un semestre di perfezionamento all'estero per divenire eccellenza di questo paese. Davide voleva tornare in Italia per poter far rifiorire il suo paese, per impinguare le fila di una classe dirigente che portasse avanti e lontano l'Italia. Poco si sa di ciò che è successo a Davide, l'epilogo è ancora confuso di ciò che è successo. E sono state pochissime le iniziative in memoria di questo ragazzo. Un doveroso applauso vorrei tributarlo ai ragazzi di Azione Universitaria Brescia che qualche settimana fa sono riusciti ad ottenere l'istituzione di una borsa di studio in memoria di Davide. E a lei vorrei strappare questa promessa, la promessa di un impegno del Ministero per ricordare la figura di Davide o magari, perché no, di immaginare una borsa di studio per consentire a tanti ragazzi di formarsi all'estero e di far continuare a vivere il sogno che Davide aveva, quello di portare sulle loro gambe il Paese Italia. Bravo, nel senso che il ricordo di Davide non mi rende difficile fare questa promessa che non so come si potrà articolare. Di solito le promesse generiche hanno poco valore, però ricordarlo è doveroso, non solo per la fine assurda che ha fatto. Adesso me ne parlava proprio un secondo fa e mi diceva che si stava ricordando Davide. Io ho un ricordo nettissimo di quando è successa la disgrazia, la tragedia. È stato accoltellato, se non sbaglio, alla New York, un ingegnere, lui era un ingegnere laureato a Torino, Politecnico di Torino, che rappresentava uno di voi, uno di noi, anch'io ho avuto l'età di Davide, la vostra età che desiderava vedere altro. Oltre a quello che aveva fatto, studiato e che avrebbe continuato a studiare nel suo Paese, voleva vedere altro, voleva contaminarsi, ibridarsi, voleva avere una storia di formazione diversa, che è esattamente quello che tutti dovrebbero fare, avendone le possibilità. E questo tocca a noi. Perché il fatto di uscire, Paola prima diceva, fatemi aprire una parentesi, è stato talmente d'impatto, il ricordo di Davide Giri, che non sono riuscita neanche a fare ringraziamenti e vi chiedo scusa, però ci siamo calati direttamente in questa dimensione, atroce, ma anche bellissima, perché ricordo è straordinariamente bello, evocativo, è un esempio. Paola, grazie, grazie a tutti gli organizzatori, ma grazie a Paola Frassinetti in particolare, a cui dobbiamo tutti tantissimo, perché è una di quei politici, fatemelo dire, è una di quei politici generosi che dovrebbero ispirare l'azione politica di tutti. Io ho un ricordo personale di Paola, è la verità, tu sai che lo penso, o dico la verità o sto zitta. Ricordo quando io sono entrata in politica, c'era Paola, eravamo compagni di banco, infatti noi ci chiamiamo le compagni di banco, e lei mi ha veramente fatto mentoring, e grande parte dell'entusiasmo che io sono riuscita a mettere nella mia attività politica, in particolare in quel momento, quando era tutto nuovo, ma grazie a lei lo era molto di meno, e il modo in cui le ho visto fare le cose in questi anni, anche su posizioni diverse, noi siamo stati in una coalizione di centro-destra, ma siamo stati anche maggioranza di opposizione. Ma Paola è Paola, è una donna onesta, piena di energia, competente, capace, capace di trascinare con sé eventi positivi. Ecco, questo è quello che dovremmo fare anche noi, perché parto da Paola, ringrazio tutti i colleghi, gli organizzatori, tutti voi, ringrazio chi ha ricordato Davide Giri, doveroso ricordarlo, ma è proprio tramite gli esempi positivi, e proprio grazie al ricordo non solo di una tragedia che non avrebbe mai dovuto succedere, quella è un'altra vicenda, un'altra storia, fa parte di un'altra morale. La morale che tu mi chiedi di trarre, che io trarrò, è l'università italiana ha sofferto, in questi anni ha sofferto moltissimo, è un'università di eccellenza, così come la formazione di base italiana è una formazione di eccellenza, se lo sa bene Giuseppe Valditara, non a caso i nostri studenti che vanno a studiare fuori, si fanno sempre valere, sono considerati dei formati eccellenti, perché c'è una formazione generalista che li accompagna e che fa sì che qualunque scelta facciano, sia una scelta, diciamo, dedicata alle scienze umane o umanistiche o anche STEM, delle scienze dure che sono quelle che adesso danno più occasione di lavoro, diciamocelo, molto spesso l'orientamento deve andare in quella direzione, noi condividiamo quest'idea dell'orientamento, consentire ai ragazzi di capire, senza perdere tempo, che cosa vogliono fare. Davide aveva la fortuna di saperlo, lui ha sempre saputo che voleva fare ingegneria ed è andato in America, se non ricordo male, a specializzarsi proprio in ingegneria, ma c'è chi non immediatamente arriva a capire quale sarà il suo futuro, dice di voler fare l'università ma non sa quale sia il suo vero talento e non possiamo avere dei figli, mio figlio non mi può dire io voglio fare giurisprudenza o forse psicologia o magari fisica, non è la stessa cosa, sta a noi fare chiarezza, sta a noi aiutarli a fare chiarezza da prima da quando sono ancora alle scuole superiori facendo una selezione ulteriore per carità tra la formazione superiore tecnica e la formazione universitaria non c'è nulla di male io ricordo che alle scuole Aldini Valeriani glorioso istituto tecnico superiore di Bologna scusate non c'è partigianeria io sono casualmente bolognese però all'istituto Aldini Valeriani di Bologna è nata la meccatronica solo dopo è stata sviluppata alla facoltà di ingegneria sono formazioni nobili quindi è molto tanto una questione di orientamento che consente di non perdere tempo nella formazione perché quando ci si comincia a formare ci si trova di fronte a un mercato potenzialmente illimitato altra cosa che noi dobbiamo fare per i nostri giovani tu mi chiedi quali sono le mie iniziative oltre all'orientamento far capire loro che ci sono delle opportunità che non sono opportunità spaventose perché illimitate quando io ho fatto la mia scelta post universitaria il mio benchmark il mio mercato di riferimento era la mia città la mia provincia la mia regione l'Italia adesso è il mondo il che è bellissimo ma molto straniante anche in questo li dobbiamo aiutare far capire loro accompagnandoli quale parte di mondo è migliore per sviluppare i loro talenti come possiamo farlo io credo molto nelle borse di studio credo molto nella parola merito molto moltissimo mi ha fatto molto piacere che la parola merito sia stata inserita in una locuzione che rappresenta un ministero perché merito significa che non solo perché hai una famiglia ricca vai avanti ma perché te lo meriti te lo meriti chi ha le disponibilità economiche va avanti comunque merito significa fare andare avanti chi deve andare avanti perché da se stesso nasce la motivazione e noi dobbiamo creare le opportunità perché questa motivazione produca effetti nel mondo nella costruzione della sua carriera della sua vita professionale in che modo le borse di studio prima parlavo con il nostro presidente non hai una clac qua presidente non hanno simpatia per te ho visto un cartello bene fate bene comunque perché è così che bisogna far crescere le istituzioni universitarie bisogna che i ragazzi all'interno dell'università facciano scusate attività facciano attività politica perché la politica è la cosa più bella del mondo perdonatemi questa notazione ma certe volte io sento pronunciare la parola politica quasi con vergogna sommessamente tutti facciamo politica in ogni momento della nostra vita la vita è politica politica familiare politica professionale politica aziendale politica scolastica politica universitaria quindi fate bene a fare politica all'università fate bene a rivendicare dei diritti come ad esempio quello di avere delle borse di studio con questo mi taccio perché se no mi rendo conto che sto portando via troppo tempo però è una cosa cui noi teniamo molto questo governo nato pochissimo tempo fa ha un obiettivo come politica universitaria stabilizzare gli effetti del piano nazionale di ripresa e resilienza abbiamo avuto soldi opportunità dietro naturalmente l'impegno a fare riforme ma non è amici che dopo il 2026 finisce tutto il nostro dovere è quello di stabilizzare i risultati altrimenti il PNRR sarebbe solamente un effetto doppante su un mercato universitario che a un certo punto verrebbe lasciato solo qual è il modo migliore per farlo per stabilizzare i risultati creare infrastrutture immateriali il circuito della ricerca noi abbiamo finanziato tante borse di studio col PNRR c'era un piccolo problema che le abbiamo finanziate per il 2022 e il 2023 cosa fa anche il 2023 quindi chiunque dica il contrario dice una cosa inesatta cosa abbiamo fatto noi visto che non c'erano più soldi dopo il 2023 quindi 2024 e 2025 avrebbe creato l'effetto strapiombo chi aveva una borsa di studio non l'avrebbe più avuta finanziata abbiamo messo 500 milioni di risorse aggiuntive non PNRR lo voglio precisare 500 milioni di risorse aggiuntive sull'università questo è un grande titolo di merito di questo governo non del ministero dell'università di questo governo che ha investito sui suoi giovani ricordatevelo stimatevi di questo 250 milioni per il 2024 250 milioni per il 2025 e tanti soldi e tante opportunità sulle residenze universitarie da qui al 2026 con dei target molto alti con degli indicatori di performance molto alti e degli obiettivi molto ambiziosi ma noi ci metteremo tutta la forza che abbiamo per raggiungerli perché il diritto allo studio non è un privilegio è un diritto è un diritto che l'università deve garantire questa è la promessa che io faccio dedicata a Davide e dedicata naturalmente a tutti gli studenti grazie grazie a lei ministro ministro roccella qual è nell'immaginario del suo ministero il ruolo che nel 2023 recitano quei giovani che compiono forse il passo più importante e più coraggioso appunto nel 2023 quello di provare a mettere su famiglia o a essere un po' più pragmatici c'è la possibilità di rivedere nuovamente un baby boom un incremento demografico nel nostro paese intanto grazie per questo incontro meraviglioso devo dire i giovani che oggi mettono su famiglia non so se sono eroici come qualcuno ha detto ma certamente sono in controtendenza fanno qualcosa che forse si potrebbe definire quasi trasgressivo perché oggi le famiglie monoparentali sono diventate più di quelle che delle famiglie con figli quindi mettere su famiglia è davvero qualcosa in controtendenza fare figli è qualcosa in controtendenza noi ci siamo posti il problema questa maggioranza questo governo si è posto il problema fin da subito perché già nel titolo del mio ministero pari opportunità e famiglia c'è anche natalità perché questo paese ieri sono usciti gli ultimi dati istat è un paese che si sta spopolando cioè non c'è soltanto un calo delle nascite c'è un calo della popolazione cioè ci sono meno cittadini italiani ogni volta che l'istat dà i dati racconta che se ne è andato via un piccolo pezzetto d'Italia come una piccola cittadina o anche una cittadina medio grande quindi è un problema che davvero è un'urgenza fondamentale anche perché tutti gli esperti ci dicono che siamo a un punto di svolta o ce ne occupiamo adesso o sarà impossibile tornare indietro allora come dobbiamo fare naturalmente mettere su famiglia è una questione difficile anche perché la famiglia non è aiutata non è sostenuta sicuramente sul piano economico e noi abbiamo immediatamente fin da questa finanziaria con tutti i limiti che abbiamo vissuto limiti di tempo e limiti di risorse soprattutto abbiamo immediatamente dato dei segnali forti segnali che non sono bonus ma sono provvedimenti ponte per quando poi potremmo affrontarli in modo strutturale quindi lo sapete perché ormai sono usciti dappertutto l'aumento dell'assegno unico per il primo figlio e dal terzo figlio in poi la riduzione dell'IVA sui beni di prima necessità per l'infanzia e così via però i problemi economici che sono fondamentali non sono i soli noi diciamo per la famiglia non abbiamo chiesto non chiediamo di fare di più chiediamo di non fare di meno di non dare alla famiglia meno di quelli che invece delle non famiglie diciamo dei singoli perché oggi la famiglia è molto maltrattata ancora e non vogliamo che sia trattata meglio vogliamo che almeno non sia trattata peggio però dicevo non è solo questo il problema basta pensare ai dati sulla natalità tutta l'Europa tutta è sotto il tasso di sostituzione che sarebbe 2,1 figli per donna in nessun paese di Europa si ha l'equilibrio demografico cioè appunto questi 2,1 figli per donna anche i paesi con un welfare molto ricco con un welfare storico come per esempio la Francia la Francia dai tempi di Mitterrand che ha costruito politiche demografiche importanti un welfare per la genitorialità e per le famiglie importante anche la Francia per esempio comincia a essere sotto questo tasso l'Italia è particolarmente in basso in questa classifica quindi non c'è soltanto un problema di welfare un problema di aiuti un problema di sostegno alle famiglie che ci deve essere per noi è molto presente ma è una questione di giustizia sociale non è tanto una questione di demografia il problema è anche culturale c'è un enorme problema culturale perché in tutto il mondo occidentale noi oggi viviamo questo problema di famiglie di persone che non hanno più l'idea di fare figli come un'idea che è nella normalità del proprio progetto di vita se oggi tornasse la madre dei gracchi verrebbe presa in giro l'idea che ti faccio vedere i miei figli come un grande tesoro sarebbe un'idea assolutamente da sfottere perché non c'è più l'idea che i figli siano una ricchezza fare figli è un problema personale è una scelta personale non c'è più quello che una volta era il valore sociale della maternità si parlava del valore sociale della maternità nella Costituzione la maternità è protetta oggi abbiamo la Boldrini che vuole abolire questa protezione anche dalla nostra Costituzione la Costituzione più bella del mondo la Costituzione che loro difendono tanto che la sinistra ha tanto difeso nominalmente e poi vuole togliere un punto così importante come la tutela della maternità oggi vi racconto una piccola cosa io ho fatto un'intervista televisiva in cui mi hanno chiesto in cui si parlava della della genitorialità del riconoscimento delle coppie della genitorialità per le coppie omosessuali io non sono entrata in questo discorso ho semplicemente detto che ognuno di noi è figlio di un uomo e di una donna che per forza di cose ognuno di noi ha una mamma che lo ha partorito e ha un padre biologico apriti cielo sono stata attaccata dal sito fra l'altro del PD quindi non da un singolo parlamentare con questa frase basta con le banalità elettorali cioè dire che si è figli per forza di cose di un uomo e di una donna è una banalità elettorale io mi chiedo cosa pensano nel PD pensano che ancora i figli nascano dalle cicogne non si sa da che cosa visto che il dato questo è un dato di fatto ineliminabile ancora non eliminato non c'è tecnologia biotecnologia che regga siamo ancora tutti figli di un padre biologico e di una madre che ci partorisce io vorrei prendere quest'occasione quest'occasione di incontro con voi per fare un appello per chiedere alla sinistra cosa pensa della denatalità perché io vedo i programmi della sinistra leggo quello che pensa Zingaretti leggo quello che pensa Bonaccini leggo quello che pensa Heidi Schlein ma non vedo una sola parola sull'urgenza più grande più importante che stiamo vivendo quella appunto della denatalità quello di un paese che non sa guardare al futuro che ha pochi giovani molti dei quali sono qui e per fortuna votano a destra diciamo così un paese che diventa sempre più anziano che si accartoccia su se stesso perché noi vogliamo tra le mie delle che c'è anche l'invecchiamento attivo e io sono convinta che questo sia prezioso il fatto di invecchiare in modo attivo e che gli anziani i nonni ci possono dare tantissimo anche nella cosiddetta terza età però un paese che non fa figli è un paese che non sa guardare con ottimismo al proprio futuro o è un paese che ha più difficoltà a innovare a imprendere a intraprendere ad avere curiosità ad essere al passo con i tempi perché ovviamente i giovani sanno essere molto più al passo dei tempi degli anziani allora io chiedo che cosa la sinistra pensa della denatalità cosa pensa di fare sulla denatalità perché non ho letto una sola parola su tutto questo ecco io ho letto invece eh un'intervista alla commissaria per l'uguaglianza europea al commissaria europea per l'uguaglianza Elena Dalli che commentando proprio questa frase pazzesca che io avevo detto cioè che siamo tutti figli di un uomo e di una donna ha detto che io confondo la biologia con i diritti anche qui io mi chiedo di quali diritti si parla si parla dei diritti dei bambini si parla dei diritti delle donne che vengono sfruttate sfruttate con l'incivile pratica dell'utero in affitto con la compravendita dei gameti la compravendita degli ovociti perché ricordiamoci che quando si tratta quando una donna a una donna viene fatto un contratto di utero in affitto si fa solo quello perché gli ovociti si prendono da un'altra donna perché proprio perché non possa dire questa donna di essere madre e quindi non possa poi rivendicare nulla sul proprio figlio sul figlio che tiene in grembo per nove mesi e che poi partorisce allora io mi chiedo se qualcuno si occupa di questi diritti e del diritto del bambino qual è il migliore interesse del bambino non è quello di avere possibilmente il proprio padre e la propria madre possibilmente perché poi i casi della vita sono tanti l'adozione serve e altre altre pratiche come l'affido serve a rimediare ai danni che nella vita ci possono essere ma se è possibile non è questo il miglior interesse di un figlio di un bambino non voglio rubare altro tempo ma io penso che il problema della cultura sia un problema di ripristinare una cultura favolevole alla genitorialità alla maternità all'apertura al futuro sia un punto fondamentale senza la quale noi non potremo invertire il trend di denatalità che ci sta affliggendo e che sta facendo diventare l'inverno demografico un vero e proprio inferno demografico grazie 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 ministro roccella ministro abodi solo di recente grazie anche al rapporto tra il ministero dello sport e il ministero dell'istruzione il tema degli stili di vita sani e dello sport è tornato al centro del dibattito pubblico ecco possiamo aspettarci finalmente una rinnovata centralità del rapporto sport istruzione e che ruolo possono giocare i giochi della gioventù in tutto ciò allora buon pomeriggio a tutti grazie a Paola al presidente ai ragazzi che hanno contribuito a realizzare questo momento di confronto comunitario voi mi scuserete se io ripartirò un po' dal ricordo di Sinisa Mijajlovic non per eludere la domanda ma per una ragione precisa perché al di là del dispiacere per chi lo ha conosciuto il dolore della famiglia degli amici io penso che Sinisa Mijajlovic in questi anni abbia rappresentato simbolicamente la lotta al male il tentativo di vincerlo quello che il pensiero di questo momento quindi non è soltanto a lui e alle persone care ma a tutti coloro a tutti coloro che ancora adesso stanno lottando contro queste malattie terribili perché la sconfitta di un guerriero come è stato a Sinisa Mijajlovic non sia il segno di una resa quindi il pensiero va a loro a tutti quelli che quotidianamente con le loro famiglie continuano incessantemente facendo leva non soltanto sulla qualità dell'assistenza ma sulla qualità morale che spinge ogni giorno a non arrendersi a cercare di resistere purtroppo a questo ospite indesiderato che colpisce tanti di noi pensavo che fosse opportuno perché non sia appunto soltanto il segno del dolore ma il segno della rinnovata sfida la quale ognuno di noi può dare un significato dopodiché un'altra piccola premessa sulla metodologia la presenza di oggi secondo me è sintomatica ma ho piacere di condividerla con questa comunità umana e politica cioè questo è un governo composto da donne e uomini che hanno la consapevolezza della delega che sta attribuita dal presidente Meloni ma hanno anche la certezza che nella collaborazione si possono trovare le risposte ai grandi temi dei quali ognuno è parzialmente titolare siamo titolari di delega ma abbiamo la consapevolezza soltanto con la collaborazione si possono raggiungere più velocemente più efficacemente gli obiettivi di governo e della nazione e lo sport sicuramente fa parte di questo gioco di squadra e devo dirvi che dai primi giorni non soltanto con i colleghi presenti ma anche con altri colleghi ci siamo promessi diciamo di stare insieme perché siamo convinti che nella matrice comune degli interessi si trovino soluzioni molto più efficaci da questo punto di vista il rapporto con la scuola ma non vale solo per lo sport è la chiave del futuro istruzione e merito non solo simbolicamente ma programmaticamente rappresentano la chiave di volta delle soluzioni che dobbiamo trovare e lo sport in questo ancora oggi fino a oggi rappresentano più gli intenti che la pratica quindi quello che è stato fatto fino ad oggi io l'ho misurato negli indicatori principali ho appena lasciato il mio collega austriaco nelle scuole austrieche le scuole primarie ogni giorno c'è attività motoria da noi nella scuola primaria c'è un po' di attività motoria un po' di attività fisica al quinto anno se andiamo ancora di più all'interno degli indicatori una scuola virgola 5 su 4 non ha la palestra scolastica il 25% dei ragazzi è sovrappeso il costo della sedentarietà che colpisce soprattutto le giovani generazioni è 10 volte il finanziamento pubblico allo sport con questi tre elementi non voglio semplicemente rappresentare le problematiche ma certamente evidenziare le differenze che ci sono tra il nostro paese e i modelli più sviluppati a livello europeo quindi in queste poche parole non c'è soltanto appunto il senso programmatico di un impegno ma ci sono le linee di indirizzo di 5 anni di mandato sapendo che non basteranno ma comunque è un percorso da intraprendere perché altrimenti lasciamo la dimensione sportiva ad una dialettica che diventa insopportabile io credo che invece sia arrivato il tempo più che di predicare di praticare e quindi approfitto di questa occasione che si associa a quello che ho detto alle commissioni culture riunite proprio nel senso del programma per dirvi che il nostro impegno di governo che non è quindi soltanto il mio per la delega specifica ma nell'ambito della collaborazione della quale vi ho parlato è ridurre le differenze che ci sono tra il nostro paese e i modelli più sviluppati di presenza della pratica sportiva all'interno della scuola per il valore simbolico che la scuola ha all'interno della società è del tutto evidente perché lo vediamo nelle ricerche nelle analisi che dove lo sport è più presente la qualità della vita dei territori e delle singole persone è migliore allora io voglio capire per quale ragione noi negli ultimi decenni sistematicamente abbiamo difeso abbiamo abbattuto indebolito le difese immunitarie e sociali io credo che questo argomento rappresenti un impegno di mandato che non è soltanto del sottoscritto non è soltanto dei colleghi qui presenti ma è dell'intero governo questo può sembrare anche un po' paradossale rispetto a una delega senza portafoglio ma io sono convinto che la progettualità rappresenti una ricchezza molto più significativa della ricchezza finanziaria quindi starà un po' a noi fare in modo che le ispirazioni ideali e valoriali determinino una ricchezza progettuale che poi vada a intercettare le risorse finanziarie che ci sono e allora perché io ho puntato molto a un progetto che considero un progetto manifesto i giochi della gioventù non soltanto per un ricordo romantico di esperienze che abbiamo vissuto in molti che si è perso nel silenzio di tutti ma perché questo progetto non è soltanto un progetto di competizione è un progetto di socialità scolastica è un progetto che mette insieme comunque ragazze e ragazzi di tutta Italia di ogni ordine grado di tutte le generazioni diciamo così scolastiche e anche senza distinzione di scienso ma perché io sono convinto che questo può diventare un progetto di progetti e dalla stagione 2023-2024 ne parlavamo con il ministro Valditara con Paola Frassinetti noi riporteremo insieme in giro per l'Italia la pratica sportiva ma non da sola perché faremo in modo che questo programma di competizioni sia arricchito comunque di educazione civica sia arricchito di educazione alimentare educazione sanitaria promozione turistica promozione culturale è un progetto esaltante perché rimette insieme cose che insieme sono poco state implementate e io credo che possa rappresentare simbolicamente proprio questa azione di governo fatta soprattutto di sintonia armonia rispetto reciproco e multidisciplinarietà quindi questo è un po' il senso della risposta che ti devo sapendo che il sistema sportivo italiano vive di un grande elemento che è una ricchezza peculiare del nostro paese il volontariato e lo ricordo con ancora maggiore soddisfazione a 50 anni dalla nascita del servizio civile universale il giorno dopo la pubblicazione del bando che per il 2023 metterà a disposizione opportunità di servizio civile universale anche sportivo per 71.200 ragazzi quindi devo dirvi che gli strumenti ci sono dobbiamo semplicemente alzare un po' il profilo della comunicazione perché io credo che le cose buone spesso vivono della timidezza del profilo basso dobbiamo invece alzare il profilo della comunicazione perché di cattive notizie ne abbiamo fin troppe e di buone cose abbiamo tremendamente bisogno per ripristinare fiducia e speranza delle quali il nostro paese ha bisogno e noi possiamo essere interpreti di sani senza protagonismo per mettere al centro dell'agenda non soltanto della politica ma della vita quotidiana un concetto che è primario la qualità della nostra vita a partire da quella dei nostri figli Grazie per l'esostima risposta Ministro Direttore Petrecca una domanda a lei sull'informazione sul ruolo che recita l'informazione tra i più giovani i giovani non si informano più con i canali canonici ma utilizzano spesso i social network i podcast c'è una nuova modalità di informazione soprattutto per i più giovani qual è il rapporto tra i giovani e che cosa sta cambiando tra i giovani e informazione Allora intanto grazie agli organizzatori grazie a te per la domanda e grazie ai ministri che diciamo hanno fatto degli interventi sicuramente interessanti io cercherò di rispondere anche legandomi a quello che ho visto a Milano perché non ci scordiamo che stiamo ricordando dieci anni di Fratelli d'Italia e io vengo da un'esperienza per cui ero a Milano e ho visto con i ministri che sono seduti qui questa sera accanto a me anche concretizzarsi quelle che sono state le promesse fatte sono state fatte delle promesse e mi sembra che stiano seguendo dei fatti e mi ricollego a quello che diceva il ministro Abboti come deve cambiare la comunicazione sembra facile dare buone notizie però in giornate come questa in cui poi sei costretto a cambiare il palinsesto e io ne so qualcosa perché dirigendo Renews24 noi lavoriamo su 24 ore ma abbiamo delle notizie che ci stravolgono il palinsesto come quella di Sinisa purtroppo che ho avuto anche il piacere di conoscere e che devo dire probabilmente in questo momento sarà al centro di tutte le cose che diremo da qui a questa sera e quindi un po' oscurerà anche le altre notizie perché noi abbiamo una dinamica per cui l'all news si occupa prevalentemente della notizia principale e poi di tutto il resto per rispondere alla tua domanda io sono direttore da un anno e ho cercato siccome sono un uomo molto concreto di trasformare l'informazione che nasce nel 1999 con una caratteristica per cui hanno in qualche modo culturalmente organizzato il canale poi io sono direttore anche di Renews.it e di Televideo e quindi anche di altre due testate assolutamente importanti e che si collegano alla domanda che hai fatto perché Renews.it è oggi uno degli strumenti principali dove i ragazzi si informano ho cercato di stravolgere un po' le cose perché quello è un canale che ovviamente nasce con una precologativa culturale diciamo moderatamente di sinistra vogliamo dire così usando un eufemismo e quindi ho cercato in qualche modo di fare una piccola rivoluzione culturale ma ho cercato di farla guardando anche le esperienze dei miei figli dicevano poco fa il ministro dell'istruzione e il ministro dell'università i ragazzi hanno bisogno di un progetto culturale secondo me diverso e soprattutto hanno bisogno di essere informati nelle scuole attraverso dei libri attraverso dei corsi di formazione che non facciano della sinistra l'unica diciamo matrice per cui l'appannaggio di un certo livello culturale sia solo loro il tema è rivoluzionare la cultura in questo paese secondo me l'ho sentito dire anche questa mattina al ministro Gennaro San Giuliano devo dire che il tema non è tanto l'istruzione che è quella che serve a tutti e per la quale voi naturalmente state lottando ma il tema è quello che quando un ragazzo come mio figlio che faceva le scuole medie veniva diciamo in qualche modo educato a quella che è stata l'antifascismo a quella che è stata la cultura per cui in Italia nel dopoguerra si è parlato solo di partigiani non si è parlato per esempio di foib allora ecco io dico che noi dobbiamo fare una rivoluzione culturale e spero che voi nel governo facciate questo naturalmente io sono abituato a stare dalla parte tua cioè a fare le domande quindi per me è anche un po' difficile fare un intervento di questo tipo però ti voglio dire che credo che nel mio piccolo ho cercato di fare una piccola rivoluzione culturale e quindi per risponderti per esempio io ho introdotto riprendendo un vecchio sogno della sinistra che era quello del Tg dei ragazzi il Tg Kids cioè un Tg due volte a settimana per i bambini che vanno dalla quinta elementare fino alla terza media e quindi possano in qualche modo avere le notizie lette in maniera più semplice ma soprattutto diciamo approcciare ad alcune tematiche non lo so penso appunto al tema della famiglia di cui parlava il ministro Lorcella o per esempio visto che si parla tanto di due padri due madri e di concetti di cui appunto si sono appropriati anche dall'altra parte ma che sicuramente hanno bisogno di essere trattati in modo che i ragazzi capiscano in che società vivono oppure ho introdotto un Tg in inglese che attraverso Rai Italia diffondiamo nel mondo e quindi diamo la possibilità ai ragazzi che sappiamo quanto parlino le lingue anche meglio di noi di sapere le informazioni e di conoscere le informazioni un po' in tutto il mondo attraverso la lingua che è poi la più parlata nel mondo ho introdotto delle forme di rassegna stampa come era quella che facevo io tanti anni fa quando andavo in onda poi naturalmente adesso riesco ad andare in onda molto meno ma con degli ospiti un pochino più equilibrati e con dei talk che diventano poi dei ragionamenti attraverso questi appunto quello che dicono i giornali naturalmente attraverso dei ragionamenti che possano aiutare la gente a capire di più i problemi che viviamo e sostanzialmente ho cercato di anche dare dei segnali dal punto di vista sociale il TG in ucraino in lingua ucraina è un telegiornale che naturalmente non fa grandi ascolti ma noi ci siamo in qualche modo con l'azienda posti il problema di dare anche informazione sulla guerra in ucraina ai profughi ucraini ai profughi veri diciamo a quelli che sono stati poi cacciati dal proprio paese per una guerra assurda e quindi ho sposato la causa dell'azienda e ho cercato di tenere l'impegno per cui noi tutti i giorni facciamo alle 15 un telegiornale in lingua ucraina sabato e domenica compresi quindi questo per dare delle risposte concrete io penso che i ragazzi oggi abbiano bisogno e lo ripeto ancora una volta di avere dei modelli culturali di capire che non c'è una destra che non può discutere un centro-destra che non può discutere di valori in qualche modo che sono stati appunto per tanti anni appannaggio solo della sinistra e credo toccando anche il tema dello sport che quelli come me che frequentavano gli oratori oggi gli oratori dove si faceva sport oggi abbiano bisogno di capire che i propri figli che vivono tra le palestre e le playstation hanno bisogno forse di qualcosa di più ministra Bodi che dei giochi della gioventù ma di qualcosa che sia legato proprio al valore sì del corpo ma anche della mente quindi io penso che la rivoluzione deve partire dal punto di vista culturale e spero che questo governo l'altro giorno il ministro Crosetto era un convegno con me diceva solidarietà squadra queste sono le risposte che dobbiamo dare al paese e forse anche cercare di fare uno sforzo per uscire da un certo tipo di ideali per entrare praticamente nella vita pratica su quello che serve veramente alla gente che ha bisogno perché non ci dobbiamo scordare che ci sono gli ultimi quelli che non hanno le risorse che in questo momento di crisi economica hanno difficoltà ad arrivare alla fine del mese che hanno bisogno di essere aiutati per primi quindi anche questo è sempre stato un concetto un po' diciamo sposato solo dalla sinistra che invece non è così quindi secondo me e chiudo dobbiamo pensare più a essere diciamo noi stessi e cercare di capire che siamo prima di tutto patrioti e quindi legati al nostro paese e alla cultura di un paese che ha grandi tradizioni e cercare di trasmettere ai nostri figli quei valori che ci hanno in qualche modo portato dove siamo grazie grazie direttore Petreca per gli interessantissimi spunti di riflessione Edoardo Silos Labini presidente dell'associazione cultura e identità siamo all'ultimo intervento ci racconti questo progetto questo recente progetto nato della fondazione città identitaria che cosa fate nelle scuole che cosa fate per i giovani le città identitarie sono un progetto che è nato con l'associazione cultura e identità praticamente noi mettiamo in rete centinaia di comuni piccoli comuni sotto i 10.000 abitanti sotto i 20.000 abitanti pensate che in Italia su 7.904 comuni il 70% sono sotto i 10.000 abitanti e questi piccoli borghi queste piccole città di provincia sono l'ossatura della nostra penisola e nascondono dei pezzi di arte dei pezzi di cultura dei simboli identitari che spesso non conoscono nemmeno gli stessi cittadini e che il mondo ci invidia e noi da lì dobbiamo ripartire allora cultura e identità che è un movimento culturale che ho fondato 5 anni fa dal palco del teatro Manzoni di Milano dopo 25 anni di carriera di attore di regista ho aggregato intellettuali giornalisti artisti imprenditori che volevano rilanciare proprio in un mondo globalizzato le nostre piccole identità territoriali l'Italia è fatta di provincia ma non soltanto l'Italia l'Europa è l'Europa dei popoli l'Europa delle culture e quindi è da lì che dobbiamo ripartire perché in queste piccole comunità si nascondono comunità sportive perché ci sono le piccole squadre i tifosi che hanno come simbolo la bandiera della propria squadra del proprio sport l'istruzione i nostri ragazzi questo lo lancio è una provocazione che lancio al ministro Valditara i nostri ragazzi devono ricominciare nelle scuole a studiare i simboli identitari dei nostri comuni perché ci sono simboli straordinari che noi non sappiamo valorizzare e poi è una battaglia che io faccio da anni dalle pagine di cultura identità per questo vi ho portato questa copertina guardate del 2019 marzo 2019 educare alla bellezza la bellezza è un valore politico siamo la patria dell'arte della cultura se non ripartiamo da lì questo lo dico a tutti quanti voi ministri perché in ognuno di voi c'è contenuta una grande battaglia ricerca istruzione famiglia sport io ministro ho interpretato per anni oltre che d'annunzio poi se volete vi faccio la pioggia nel pineto mazzini allora quel dio padre e famiglia anche in chiave contemporanea è un messaggio che parte dalle piccole comunità delle nostre città allora facciamo rendiamo obbligatoria fin nella scuola materna le materie artistiche ministro i nostri ragazzi fin dall'asilo devono studiare la nostra storia dell'arte la musica la storia dei nostri artisti perché l'Italia è quello è un popolo pazzesco pensate va tanto di moda la parola patrioti ma un grande patriota è stato un imbianchino della provincia di Varese tal Vincenzo Perruggia che nel 1911 si nascose nel Louvre di Parigi per rubare la gioconda e restituirla agli italiani non sapeva ministro che Leonardo l'aveva regalata ai francesi però quello fu un atto patriottico pensate la straordinarietà di questo uomo che si nasconde dentro il Louvre per ridare la gioconda agli italiani se la tiene per due anni nascosta dentro casa poi la dà agli uffizi di Firenze che naturalmente invece di esporla la ridanno i francesi ecco essere patriota oggi nel nostro paese vuol dire in primis amare il nostro immenso patrimonio artistico e culturale grazie però la pioggia nel pineto ve la faccio no perché se no scusate anche perché è una proposta che ho fatto pure prima al sottosegretario Mazzi che ha diretto il festival di Sanremo per anni se no il festival di Sanremo sembra anche quest'anno una festa dell'unità secondo me se ci vado io che gli faccio un po' di dannunzio che dite visto che sono i 160 anni della nascita del Vate e il centenario della donazione del vittoriale agli italiani che dite ministri Paola cosa faccio pensate se invece che Fedez arriva sul palco un futurista e recita il Vates taci sulle soglie del bosco non odo parole che dici umane ma odo parole più nuove che parlano gocciole e foglie lontane ascolta piove dalle nuvole sparse piove sulle tamerici salmastre ed arse piove sui pini scagliosi ed irti piove piove sui mirti divini sulle ginestre fulgenti di fiori accolti sui ginepri folti di coccole olenti e piove sui nostri volti silvani piove sulle nostre mani inude sui nostri vestimenti leggeri sui freschi pensieri che l'anima schiude novella sulla favola bella che ieri mi illuse che oggi ti illude ermione questo è il nuovo immaginario ripartiamo dai nostri grandi poeti dal bate d'annunzio grazie 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 secondo me Amadeus non mi prende ho questa vaga sensazione secondo me Amadeus non mi chiama sul palco di Sanremo no secondo me grazie Edoardo grazie agli ospiti che sono stati qui con noi oggi grazie ai ministri vi invito a non abbandonare la sala perché tra pochi minuti ci sarà il prossimo panel grazie ancora a tutti grazie 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 a tutti siamo pronti siamo pronti per partire con il prossimo appuntamento vi prego di sedervi e allora adesso saliranno sul palco con gli esponenti del centrodestra per l'incontro dal titolo centrodestra un patto con gli italiani che festeggerà i primi 30 anni chiamo quindi sul palco il vicepresidente della camera Fabio Rampelli Fabio in arrivo lo richiamiamo quando c'è c'era c'era va bene in arrivo Fabio il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato Lucio Malanna il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Tommaso Foti capogruppo di Forza Italia al Senato Licia Ronzulli capogruppo di Forza Italia alla Camera Alessandro Cattaneo capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari vice capogruppo alla Camera per noi moderati Pino Bicchielli e per noi moderati Lorenzo Cesa Antonio De Poli è arrivato anche il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli ringraziamo per la presenza a moderare questo incontro il direttore del tempo Davide Becchi Grazie Giovanni grazie buonasera siete tantissimi complimenti il tempo per noi è stretto quindi io inizierei subito partirei con una domanda rapida a girare a tutti poi da l'onorevole Rampelli visto che è il primo dall'altra parte iniziamo da lì allora anche oggi si parla di manovra state rivoluzionando davvero nell'ultimo mese avete fatto mille cose che anche noi come giornalisti facciamo fatica a seguire e raccontare tutte qual è la cosa che promuove e quella della manovra e quella che boccia della manovra o che vorrebbe migliorare ma guardi non vorrei apparire intanto grazie grazie a tutti per questa presenza così importante grazie a tutti gli ospiti questo non è il mio compito dicevo che non per essere di parte ma esprimere anche qualche dubbio e perplessità in ordine una manovra che è stata realizzata in così poco tempo e che diciamolo è comunque una manovra figlia della precedente legislatura dell'ultimo governo su cui noi abbiamo avuto un margine molto esiguo reso ancora meno rilevante dal fatto che comunque c'era una scadenza europea e c'era un'emergenza c'era tuttora c'è un'emergenza energetica importante e abbiamo potuto fare comunque i conti con come tutti ormai sappiamo il caro bollette quindi io sono rimasto strabiliato e particolarmente soddisfatto perché ho visto da un lato la capacità di tenere fronte a queste emergenze in maniera autorevole e decisa e dall'altro però i titoli almeno di quello che noi vorremmo fare nel corso della legislatura ci sono tutti quindi ha avuto del miracoloso vedere per esempio la flat tax cioè la tassa piatta sui redditi incrementali vedere il lanzamento da 65.000 a 85 quindi dare questo impulso per far ribartire l'economia per far ribartire la produzione vedere comunque il desiderio di salvaguardare perché questo è il bicchiere mezzo pieno il diritto all'assistenza delle persone inabili al lavoro quello che viene definito reddito di cittadinanza noi non l'abbiamo scartato in tutto e per tutto abbiamo detto chi non è in condizione di lavorare deve essere assistito e la destra ha sempre avuto una particolare sensibilità da questo punto di vista e quindi orgogliosamente rivendica questo risultato però l'altra sfida è quella di creare il lavoro per chi i percettori di radio cittadinanza abili al lavoro in realtà a questo dovrebbe aspirare perché ricordo a me stesso che il radio cittadinanza quando è stato varato doveva durare in carica tre anni neanche gli inventori di questa misura hanno mai immaginato che potesse essere una sorta di vitalizio anzi rammento a me stesso che Beppe Grillo e compagni la logica del vitalizio l'hanno combattuta e quindi dovrebbero combattere per così dire anche in ordine al radio di cittadinanza e la misura che viene affiancata non è che le voglio citare tutto perché sennò non ci sarebbe spazio per altri interventi quindi cesso qui la mia riflessione il miracolo da questo punto di vista è rappresentato dal fatto che per creare nuovi posti di lavoro viene applicato il principio che Giorgia Meloni in campagna elettorale ha rassunto in uno slogan molto comprensibile più assumi meno paghi quindi il principio della decontribuzione il principio che di fatto fa costare a un'azienda che assume nuovi lavoratori dipendenti il lavoratore soltanto per lo stipendio che deve elargire punto quindi più o meno la metà del costo reale questo è un altro motore che va nella direzione della creazione di posti lavoro che può essere una prima risposta proprio ai percettori di reddito di cittadinanza abili al lavoro quindi io non ho diciamo in questo momento particolari perplessità non perché non abbia delle ambizioni ce l'ho io ce l'hanno tutti i componenti della coalizione di centrotessa ce l'ha Giorgia Meloni prima fra tutti ma sappiamo che la nostra vera legge di bilancio in cui butteremo giù le carte del nostro mandato sarà la prossima questa è una legge di bilancio a cui noi siamo comunque fortemente obbligati impegnata per i due terzi dalla manovra sulle bollette energetiche quindi promozione sono a pieni voti grazie mille l'onorevole Rampelli io se le chiedo di passare il suo microfono all'onorevole Ronzulli che è capogruppo di Forza ah ce l'ha perfetto sono anche organizzatissimi allora io devo fare quello cattivo però ho una domanda quasi scontata prego prego benvenuta nella tana del lupo nel senso che per molti giornali sembra che lei fosse la nemica numero uno in realtà poi sappiamo che non è così però da parte sua ci sono state spesso e con frequenza alcune critiche mosse anche soprattutto alla manovra alcune decisioni quale lei cambierebbe non dico radicalmente ma in maniera sostanziale come la farebbe diversa allora intanto visto che sono come dici tu nella tana del lupo io non penso di essere nella tana del lupo ne approfitto per salutare tutto il popolo di Fratelli d'Italia e lo ringrazio per l'accoglienza ringrazio soprattutto Fratelli d'Italia per questo invito per questa questo momento di confronto tra i capigruppo e quindi penso che sia davvero una bella iniziativa quella che fate ormai da anni la guardavo con grande curiosità e entusiasmo anche negli anni passati ho visto quella dell'anno scorso quest'anno sono addirittura sul palco quindi sono molto felice di essere qui detto questo non sono quella che vuole sabotare il governo non sono quella che non è mai d'accordo non sono come mi dice la mia collega Craxi la pierina sono una che caratterialmente ha un carattere molto forte chi mi conosce lo sa sono una un po' tignosa e anche un po' testarda non so se questi sono dei difetti credo che nel mondo politico questi siano dei pregi anche perché per portare avanti le nostre idee le nostre battaglie a volte c'è bisogno non so se di un brutto carattere ma di un carattere forte questo senz'altro io rivendico alcune posizioni lo faccio per coerenza e quando parlo di coerenza so che lo sto dicendo a un popolo il popolo di Fratelli d'Italia che ha fatto della coerenza la sua ascesa perché è sempre stato dalla stessa parte quindi so che può capirmi quando magari come settimana scorsa ho preso una decisione diversa dalla maggioranza ma dicendo al mio gruppo la mia è una decisione di coerenza ma noi siamo responsabili a fianco alla coerenza ci deve essere sempre anche la responsabilità motivo per cui noi abbiamo votato convintamente il decreto chiamato Rave perché Forza Italia aveva lavorato molto per migliorare quel decreto che ricordiamo essere stato proprio il primo decreto del governo Meloni quindi è stato migliorato sia sulla parte Rave che sulla parte dei chiamati reati ostativi Forza Italia aveva dato un grandissimo contributo la maggioranza tutta aveva dato un ottimo contributo e quindi noi non si poteva buttare via il bambino con l'acqua sporca e abbiamo deciso di votare giustamente come d'indicazione del governo ci sono alcuni temi so di essere in minoranza in questo capannone come sui vaccini per cui io non posso rinnegare me stessa non posso rinnegare la mia coerenza e anche la mia storia però ripeto lo sto dicendo a un popolo che non ha mai rinnegato se stesso anche quando l'acqua era bassa anche quando era difficile stare all'opposizione anche quando era difficile stare da una parte della storia quando tutti attaccavano e quindi so che mi spero che mi abbia capito quantomeno ho rispettato quella scelta sulla manovra ci sono stati degli argomenti in cui Forza Italia ovviamente ha detto la sua noi volevamo non uso mai o quasi mai la parola migliorare questa manovra ma quanto rafforzare penso che questa sia una manovra come diceva Presidente Rampelli in parte già scritta è una delle cinque manovre che faremo in questi cinque anni la prima noi abbiamo degli obiettivi che sono di legislatura penso per esempio per alle pensioni minime a mille euro qualcuno adesso sta dicendo ah ma parlavate di pensioni minime a mille euro in campagna elettorale intanto probabilmente le porteremo per le persone più in difficoltà per gli over 75 a 600 euro ma è la prima manovra e noi siamo convinti che in questi cinque anni riusciremo ad ottenere questo obiettivo come per esempio in manovra l'abbiamo fatto all'interno della commissione parlo per esempio nell'aiuti quarter partito dall'aiuti quarter adesso arriverà in bilancio la battaglia sul super bonus anche su questo ci sono ci sono sensibilità diverse ma quello che noi pensiamo e credo che questo valga per tutta la maggioranza quando qualcuno un cittadino si fida dello Stato e si affida allo Stato lo Stato non può cambiare le carte in corsa le regole in corsa quindi noi abbiamo chiesto una proroga il 31 di dicembre proroga che abbiamo ottenuto anche grazie ovviamente al supporto di tutti i partiti della maggioranza ci sono anche altri emendamenti su cui abbiamo lavorato penso alla sicurezza penso alla sanità penso all'università non so se ne ha già parlato il ministro Bernini io penso che alla fine considerati i tempi considerate ovviamente le condizioni da cui partivamo considerato il fatto che di una manovra così grande 35 miliardi due terzi li abbiamo dovuti dedicare proprio al caro energia alle famiglie alle imprese io penso che il centrodestra e il governo abbiano fatto davvero un buon lavoro su questa manovra sapendo che è il primo mattone che stiamo mettendo e che tanti mattoni continueremo ad appoggiare per costruire le fondamenta dei prossimi cinque anni grazie mille fra l'altro le pensioni minime perché va ricordato che ci sono oggi che sono a 500 euro quelle fatte dal governo Berlusconi a un milione di lire la sinistra si lamenta sempre perché sentite qua quando la sinistra parla del cetio medio basso delle persone in difficoltà delle famiglie indigenti è attenzione agli ultimi quando lo fa il centrodestra come in questa manovra è pura propaganda allora siccome il centrosinistra ha governato questi dieci anni senza aver mai vinto le elezioni come mai non sono stati in grado di aumentare le pensioni minime siamo arrivati noi e lo faremo noi appena finiscono il congresso e si riorganizzano forse risponderanno adesso un po' alla volta ci arriviamo adesso coinvolgerei grazie mille l'onore Riccardo Molinari perché saltiamo Fratelli d'Italia Forza Italia e ora arriviamo a Lega e poi manca un'altra forza di questo governo che anche lì andrebbe ricordato dopo dieci anni finalmente c'è un governo che è stato eletto votato nelle urne e che quindi sta portando avanti un programma voi come Lega siete sempre stati uno degli assi portanti dei governi di centrodestra e ora riuscirete state riuscendo a realizzare una vostra vecchia battaglia che era nata col secessionismo federalismo e adesso state andando verso questa divisione delle regioni sì prima di tutto grazie agli amici di Fratelli d'Italia per l'invito e insomma complimenti auguri per la vostra festa e per i vostri dieci anni di vita quello che ha detto sì è vero noi siamo sempre stati una delle forze del centrodestra abbiamo sempre creduto nella forza del centrodestra soprattutto come coalizione che al netto delle diatribe nazionali perché ci sono stati momenti anche a livello nazionale in cui abbiamo avuto posizioni diverse anche nella passata legislatura fasi in cui siamo stati all'opposizione insieme fasi in cui noi a Forza Italia eravamo al governo ma il centrodestra ha saputo essere soprattutto sui territori un punto di riferimento stabile e un modello di buon governo e in questo modo noi in questi 30 anni abbiamo guadagnato quella credibilità che ci permette oggi di essere una serie alternativa alle sinistre di essere tornati a governare il paese come coalizione politica dopo tanti anni in cui abbiamo avuto le più diverse alchimie dai governi tecnici ai governi a maggioranze variabili e certamente il tema dell'autonomia è per noi il core business della Lega cioè la Lega nasce per questo nasce per la riforma federale dello Stato e credo che nel programma di mandato che abbiamo sottoscritto insieme a Forza Italia a Fratelli d'Italia e gli amici centristi ci sia un buon equilibrio cioè l'idea di affrontare le riforme istituzionali portando a casa da una parte la riforma presidenziale che è quello su cui i fratelli d'Italia ma anche Forza Italia insomma si battono da tempo e dall'altra parte dare piena attuazione alla carta costituzionale perché voglio dire anche questo la riforma dell'autonomia non è qualcosa che noi dobbiamo creare da zero inventarci la riforma dell'autonomia è in costituzione non è mai stata applicata il sistema dell'autonomia differenziata è un sistema per cui ogni regione può decidere se chiedere maggiori competenze sulla base di quello che prevede l'articolo 116 della costituzione e con le maggiori competenze poter gestire in autonomia anche le risorse che oggi ha qual è la polemica che viene fatta su questo argomento? su questo argomento chi è contro l'autonomia ritiene che ci possono essere delle disparità nella gestione delle risorse allora qua ci sono due metodi che si possono seguire c'è quello della spesa storica e c'è quello dei livelli essenziali delle prestazioni che è la strada che ha seguito il governo quello della spesa storica avrebbe voluto dire che in base a quanto storicamente ogni regione ha ricevuto dal governo centrale per esercitare le funzioni si trattiene quella parte di denaro e trova il modo di gestirlo dall'altra parte invece la strada che abbiamo scelto ed è inserito in legge di bilancio è quello di demandare le varie regioni a stabilire i LEP cioè i livelli essenziali delle prestazioni e stabilire una volta per tutte ogni funzione quanto costa e quindi alla fine questo cosa significa significa dare maggiore trasparenza all'azione amministrativa perché insomma chiunque abbia fatto l'amministratore locale qua immagino ce ne siano tanti in un comune in una provincia in un paese sa perfettamente che i cittadini ti valutano sulla base di come spendi i soldi pubblici e di quello che sai fare l'autonomia è semplicemente maggiore trasparenza e permettere anche che i cittadini abbiano una migliore valutazione delle buone amministrazioni in base a come gestiscono le risorse e che chi è bravo ad amministrare bene e a gestire le competenze possa chiedere sempre più competenze e quindi sempre più risorse per lavorare ancora meglio quindi non è qualcosa che disgrega il paese è qualcosa che unisce il paese nelle differenze e nelle diversità rispettando quello che è il dettato costituzionale quindi io ritengo che oltre a questo poi già in legge di bilancio abbiamo dato anche risposte su altri temi molto cari a noi questo sicuramente è il principale ma voglio dire che sui temi sociali si è vista una differenza nel senso che a me fa impressione vedere che abbiamo dei sindacati o poi rispetto i sindacati e l'autonomia dei sindacati sempre e comunque anche quando non la pensano come noi ma se c'è una cosa che chi va in piazza non può dire è che questa manovra sia una manovra per i ricchi contro le fasce più deboli è esattamente l'opposto cioè la scelta che il centrodestra ha fatto in questo momento di difficoltà del paese è stata quella di stare vicino alle categorie socialmente più deboli l'abbiamo fatto con il taglio del cuneo fiscale l'abbiamo fatto con la quota 103 quindi dando un ponte per non entrare direttamente nella Fornero lo abbiamo fatto con la rivalutazione delle pensioni più basse e quindi si può andare in piazza per tanti motivi ma il punto politico principale dal mio punto di vista di questa manovra è che il centrodestra ha dimostrato quell'attenzione al disagio sociale alle fasce più deboli di cui la sinistra tanto parla ma che in pratica non ha mai seguito a cui non ha mai dato risposte grazie perfetto avere tutti il capogruppo della maggioranza è piuttosto complicato vorrei farvi 20 domande ma dobbiamo andare veloci onorevole Bicchielli arrivo da lei noi moderati come vi trovate in questo governo? allora prima di tutto buon compleanno credo che sia doveroso noi moderati è una formazione politica che sta in questo governo convintamente e fa del pragmatismo il suo punto di riferimento abbiamo messo insieme più esperienze c'è l'esperienza di Maurizio Lupi ci sono amministratori importanti come il presidente della regione Liguria Giovanni Totti il sindaco di Venezia che è il sindaco più amato d'Italia Brugnaro ci sono gli amici dell'Udc dico questo perché di solito il termine moderati è un termine che viene assimilato a un politicamente negli ultimi anni a un diciamo a fatti negativi cioè a responsabili a persone che tenevano i governi all'interno di una palude invece questo non riguarda noi noi siamo moderati ma siamo anche incazzati su alcuni temi e siamo sicuramente parte integrante del centro destra siamo i più piccoli ma come dicevano alcuni amici miei anni fa quando tu fai l'impasto il lievito è la parte più piccola ma è anche la parte più importante che può aiutare noi ci sentiamo e ringraziamo di questo gli amici dei fratelli d'Italia e il presidente e la presidente Meloni che hanno voluto nel governo di centro-destra e nella maggioranza di centro-destra della nostra formazione dico questo perché noi stiamo dando il nostro contributo ovviamente dimensionato su quello che noi in questo momento siamo nel paese ma stiamo dando un contributo sui temi che noi riteniamo fondamentali per il nostro mondo ad iniziare dalla famiglia siamo intervenuti anche sul reddito di cittadinanza e qui potremmo abbiamo chiesto che i mesi venissero ridotti e venissero aiutate le imprese venissero aiutati i giovani a lavorare non ad avere un sussidio perché ecco ad esempio anche qui noi parliamo di reddito e in realtà quello reddito non è è un po' quando la sinistra ha portato in questo paese delle terminologie completamente sbagliate il reddito è legato alla produzione al pagamento di un lavoro questo che c'è oggi è un sussidio il reddito è una cosa diversa e noi vogliamo dare il reddito ai nostri giovani per questo diciamo investiamo sulle imprese perché le imprese investendosi giovani danno loro veramente un reddito e danno un futuro questo per noi è fondamentale ultimo punto perché siamo in tanti e dobbiamo parlare tutti io credo che il fatto che noi siamo qui oggi a rappresentare non solo il futuro ma anche una storia e forse non viene mai detto abbastanza dopo due mesi questo paese ha un governo politico cinque anni fa dopo due mesi ancora c'era il governo Gentiloni che veniva dal passato governo questo dimostra che oggi veramente c'è la volontà e noi moderati siamo convintamente qui dentro di fare le cose per bene velocemente ma di farle politicamente e non nella palude grazie mille ricomincerai il giro onorevole Malan partirei da lei da quando è caduto il governo Draghi per i primi mesi almeno i due o tre mesi è stato detto che l'Italia sarebbe stata la rovina assoluta se aveste vinto voi e se avesse vinto il centrodestra anche l'altro ieri la comunità la UE Bruxelles ha promosso la manovra bocciando fra l'altro quelle della Germania tanto per dirne una invece all'Italia ha fatto tre piccoli rilievi lei che diciamo con Bruxelles qualche rapporto ce l'ha avuto e ce l'ha come valuta la percezione anche che c'è da parte degli italiani ora dopo appena due mesi di governo La percezione dell'Italia come è giusto che sia è la percezione di una nazione importante nazione tra le fondatrici dell'Unione Europea il secondo manufatturiero il secondo per il prodotto manufatturiero in Europa e diciamolo pure invidiata da tutti l'approccio della sinistra che era quello di dire che se non ci fossero stati loro al governo qualcuno che loro approvavano purché non fosse eletto dal popolo perché questo evidentemente costituisce un problema perché se non sarebbe altrimenti non sarebbe uno dei loro dicevano che se non ci fosse stato uno di loro allora l'Italia sarebbe decaduta irrimediabilmente è ovvio che non doveva essere così che non sarebbe stato così questo era chiaro era chiaro che questa sì che era mera propaganda elettorale propaganda elettorale che dico va anche bene anche se in campagna elettorale fuori uno dovrebbe dire la verità e non delle falsità aperte ma il problema è che era un attacco contro l'Italia non era contro il centrodestra ma era contro l'Italia e questo appunto era scontato ma l'inizio estremamente positivo che ha avuto l'azione del governo che ha avuto l'azione della maggioranza della maggioranza parlamentare ha indubbiamente tappato la bocca ad eventuali possibili critiche questa è la manovra dal punto di vista finanziario più prudente degli ultimi anni inevitabilmente doveva essere intanto perché potevamo sempre sospettare che nei nostri confronti ci fossero dei parametri più severi di quelli che ci sono stati con altri e in secondo luogo dopo aver accumulato anche proprio negli ultimi anni un debito pubblico molto molto alto c'è stata la pandemia e così via però intanto quel debito si è accumulato non si poteva certamente avere un approccio diverso e una manovra che ha saputo allo stesso tempo venire incontro alle fasce più deboli della popolazione venire incontro all'esigenza primaria o l'urgenza di questo momento che è il caro energia e dicevo allo stesso tempo avere un riscontro positivo sui mercati lo spread a parte la fiammata degli ultimi due giorni per una improvvida decisione della banca centrale europea lo spread si è abbassato parecchio rispetto di 30 punti rispetto al momento in cui si sono tenute le elezioni la borsa è salita del 13% nonostante il calo che c'è stato ieri e dunque si sono trovati tutti a bocca chiusa e l'Italia è protagonista assertiva in Europa grazie alla capacità di Giorgia Meloni di aver rappresentato l'Italia con equilibrio ma con autorevolezza questa mattina Giulio Tremonti ha detto quando ti siedi a un tavolo ci sono due ruoli quello del commensale e quello della pietanza ecco ora l'Italia è commensale e non è più pietanza grazie mille io onorevole Cattaneo siete tanti quindi un po' alla volta riuscire a coinvolgervi tutti lo prometto l'Europa Bruxelles lo scandalo Qatargate finalmente anche gli altri scoprono un po' di garantismo o è una cosa passeggera beh intanto anch'io non posso ringraziare Fratelli d'Italia per questa bella occasione io dieci anni fa ricordo benissimo qual era l'atmosfera che c'era nel paese che c'era c'era ancora il PDL c'era il governo Monti c'era fibrillazione in tanti amministratori io con qualche sindaco allora facevo il sindaco di Pavia con Guido Castelli che qua in prima fila con Umberto Di Primio avevamo fatto un movimento che si chiamava l'Italia chiamò voi siete andati avanti e avete fatto Fratelli d'Italia diciamo avete preso l'incipit che avevamo dato e da allora fu la campagna elettorale per fare un flashback e ricordarci dove eravamo e chi eravamo famosa per la performance di Berlusconi che pulì la sedia di travaglio e Berlusconi che riportò in alto il PDL facendo oltre il 20% questo solo per dire che dopo vent'anni dopo dieci anni chi appariva un messia allora e allora sembrava Monti il messia ne abbiamo poche notizie e chi invece ha continuato a battere la strada in senso buono della politica a credere nella centralità dell'azione politica dei territori contro il palazzo contro chi faceva il tecnico il facile profeta oggi siamo qua a governare il paese e il centrodestra alla fine ha avuto ragione perché gli italiani ancora una volta ci hanno votato questo per dire che alla fine le persone e gli italiani hanno premiato alla fine la buona politica e non invece i salotti i tecnici e altri artifici che in certi momenti sembravano andare per la maggiore e questo è un patrimonio comune di tutti deve essere un patrimonio di cui il centrodestra deve andarne orgoglioso e soprattutto un centrodestra che alla fine ci dipingono come divisi ma perché nella sintesi mediatica non può che essere altrimenti però alla fine noi la sintesi la troviamo sempre siamo tre partiti diversi sì è vero è viva abbiamo deciso di rimanere tre partiti diversi con i noi moderati che fa la quarta gamba del tavolo perché crediamo che poi alla fine sia un arricchimento portare nel tavolo della coalizione le nostre idee e non facciamo fatica alla fine a trovare questa sintesi anche perché la troviamo ogni giorno governando le più importanti regioni del paese ogni giorno governando migliaia di comuni e ogni giorno anche alla camera e vengo a noi cercando di trovare la sintesi su temi anche complessi l'altro giorno avevamo due emozioni che potenzialmente potevano essere delicate quella dell'Ucraina e quella del MES e poi quella sul salario minimo ci siamo parlati ci siamo confrontati nel giro di qualche ora abbiamo trovato la sintesi con buona pace di chi immagina divisioni che dalla nostra parte non ci sono allora questo lavoro di sintesi noi dobbiamo portarlo avanti perché alla fine gli italiani i nostri elettori si sentono in certi momenti ancora più di centrodestra prima che essere magari di questo quel partito e vogliono da noi il senso di responsabilità di dare risposte cioè sono contenti di votare ciascuno al proprio partito ma non ci perdonano se ci dividiamo e questo noi dobbiamo tenerlo sempre a mente e ricordiamoci che gli avversari sono dall'altra parte sono quelli che ancora oggi continuano ad avere la presunzione di un primato ideologico di avere una superiorità morale culturale che purtroppo viene puntualmente smentita dai fatti si dovrebbero seppellire dopo le figuracce fatte dopo il caso su Moro e dopo pochi giorni ora sul Qatar Gate come tu mi sollecitavi a parti invertite ci avrebbero massacrato se fosse emerso qualcosa del genere sul Qatar Gate rispetto a qualche coinvolgimento l'altro giorno in una trasmissione televisiva sono arrivati a dire questo ero con Brando Benifei e l'unico modo l'unico argomento che ha provato a portare per difendersi era no ma la vicepresidente del PSE del Parlamento Europeo stava passando col centrodestra cioè capite che loro culturalmente non riescono a poter interiorizzare che ci sono le mele marce anche da loro parte ne fanno sempre un discorso ideologico del bene contro il mare loro si sentono dalla parte del bene scendiete dal piedistallo cara sinistra perché non state dalla parte del bene e noi però abbiamo il pragmatismo la sostanza la serietà per non strumentalizzare parimenti biecamente questi casi ovviamente diciamo che non c'è nessuno che sta dalla parte del bene per definizione ma cercheremo di difendere le istituzioni europee facendo un lavoro di vera etica di vero approfondimento perché alla fine anche la sinistra ha scoperto che quando ha strumentalizzato i temi della giustizia diventando giustizialista poi è arrivato qualcuno di più puro che li ha epurati ovvero i 5 stelle noi invece credo che dobbiamo anche sul catargate su scandali come questi fare un lavoro razionale di verità di difendere le istituzioni sapendo che le mele marce possono esserci da tante parti ma soprattutto le persone per bene stanno trasversalmente in tutti i partiti e che alla fine dopo dieci anni di storia dove abbiamo attraversato diciamo l'innamoramento per i tecnici l'innamoramento per i populisti l'innamoramento per i giustizialisti alla fine il centro-destra è qua perché in tutti i nostri partiti ci sono persone per bene che hanno creduto nella buona politica e che sono rimaste al loro posto anche quando conveniva spostarsi da altre parti e quindi questo è il centro io credo anche del messaggio valoriale in qualche modo etico che noi dobbiamo rivendicare e che alla sinistra diciamo cara sinistra non c'è nessuna superiorità morale scusate prendo un attimo la parola senza che qualcuno mi abbia fatto la domanda ma perché Alessandro ha ripetuto tante volte una parola Qatargate allora facciamo finta di essere in un'assemblea facciamo finta di votare una mozione d'ordine immediatamente ma perché cavolo lo dobbiamo continuare a chiamare Qatargate chiamiamo le cose con il loro nome questa è SDgate è partito democratico gate è sinistra gate perché al contrario come dice giustamente Alessandro ci avrebbero messo in croce il partito dei socialisti e democratici quindi la sinistra europea e in particolare in Italia il partito democratico ci sono del partito democratico sono i protagonisti di questo scandalo votiamo la votiamo certo ma come voi ci insegnate fino al terzo grado di giudizio sono tutti giusto voi lo ripetete a vent'anni mi sembra corretto ora finalmente lo dimostrate devono impararlo anche gli altri il momento storico è questo col microfono col microfono per carità hai ragione noi siamo sempre comunque garantisti ma mi spiace in Europa l'Italia ha perso la credibilità oggi guardiamo la stampa di questi giorni continuando a chiamare uno scandalo con un nome che ha a che fare con uno Stato che per carità ha le sue responsabilità ma in Europa il più grande responsabile in questo momento è il partito dei socialisti democratici che poi bisognerà vedere ancora lunga l'inchiesta quindi chissà quello che poi ne verrà fuori e quanti ne saranno onorevole Molinari lei su questo come vogliamo ribattezzarlo come lo ripete per favore onorevole Ronzulli non Qatargate ma SD Gate allora su questo io ribadisco il nostro garantismo sempre quindi il garantismo c'è anche quando ci vanno di mezzo quelli della sinistra certo è che quando ti trovano in casa dei sacchi di contante c'è evidentemente una flagranza di reato però hanno detto che non servivano a loro che il padre lei li ha trovati e si è stupita e li ha fatti portare via dal padre per quello diciamo che c'è c'è anche una confessione del compagno insomma diciamo che qua ci sono degli elementi abbastanza chiari detto questo poi gli aspetti si verranno chiariti nel corso dell'indagine aspettiamo che vengano chiariti il punto politico però è un altro cioè il punto politico è che noi sono anni che sia noi che fratelli d'Italia che Forza Italia ci sentiamo dire dalle sinistre a livello europeo a livello nazionale che alcune posizioni politiche del centro-destra in Europa volte a difendere l'interesse nazionale si sospettava che fossero condizionate da paesi stranieri per quanto riguarda noi hanno cercato i rubli hanno cercato le influenze dell'estrema destra su fratelli d'Italia finanziamenti non chiari e quant'altro e chi faceva la morale a noi su influenze straniere e su finanziamenti illeciti e poi chi ha degli esponenti che si è stato trovato con i contanti e evidentemente con il mandato di fare interessi di altri aggiungo che non so se ci siano contanti ossia semplice amore ma è evidente che a livello europeo molto spesso la sinistra non dico per corruzione magari per convinzione però certamente spesso ha preso delle posizioni che non hanno fatto l'interesse del nostro paese quindi non so se sia una predisposizione all'esterofilia ossia legata al pagamento di tangenti ma diciamo che chi non può dare lezioni alla Lega e al centrodestra sul fatto di lavorare per altri paesi sono certamente loro questo è il punto politico poi la vicenda giudiziaria si vedrà come andrà a finire ripeto io sono garantista anche quando ci vanno di mezzo gli altri e i processi in televisione sui giornali non mi piacciono anche quando ci sono di mezzo i nostri avversari no fra l'altro è vero ci sono pochi giorni fa ho scoperto che grazie all'intervento di alcuni di voi Bruxelles noi avevamo il vino e la carne italiana che erano inseriti da Bruxelles negli alimenti cancerogeni dannosi che è la follia allo stato puro il vino e la carne italiana comunque onorevole De Poli arrivo a lei credo che voi come noi moderati oltre a essere a vostro agio con il garantismo e con questa maggioranza state portando avanti alcune istanze in particolare lei cosa si aspetta come intervento nella manovra specifica per voi come noi moderati allora grazie anch'io vi auguro un buon compleanno perché dieci anni fa mi sono trovato guardando in internet c'era una domanda da parte di un giornalista a Giorgia Meloni che diceva corre per vincere o farsi vedere e lei risponde corro per rappresentare le mie idee e oggi questa maggioranza e questo governo corre per realizzare le proprie idee e credo che questa sia la grande scommessa e la grande realtà che noi abbiamo davanti e lo stiamo dimostrando giorno per giorno con tutte le difficoltà che ci sono perché abbiamo preso in mano abbiamo una maggioranza e un governo che credo che sia nella storia il momento peggiore dopo pandemia una crisi economica sull'aspetto energetico fondamentale dove tre quarti se non di più delle nostre risorse vanno per dare le risposte cittadini e imprese che oggi sono in difficoltà e che non ce la fanno ad andare avanti e questo è avere presente non le chiacchiere ma i veri problemi dei nostri cittadini e delle nostre imprese questo è il primo aspetto secondo aspetto altrettanto siamo intervenuti immediatamente sui problemi dei territori mi viene in mente l'alluvione delle marche 400 milioni due immediati 200 milioni immediati 200 milioni in manovra per dare quelle risposte oggi i cittadini che hanno bisogno come a Ischia e questo è tener conto vedo anche i colleghi Leonardo e Castelli che sono qui insieme con tutti gli altri la squadra del centro-destra che si è messa insieme per dare queste risposte è vero ci sono differenze ma per fortuna che ci sono le differenze perché le differenze ci fanno crescere ma l'importanza della squadra lo citavo qualche secondo qualche secondo fa è fondamentale ed è questo il nostro obiettivo questa squadra deve governare e far sì che questa manovra come lo stiamo facendo intanto la approviamo entro fine anno e tutti dicevano ah andate in esercizio provvisorio non ce l'ha fatta l'Europa vi boccia siete incapaci stiamo dimostrando l'Europa ci ha promosso dimostreremo che entro il 28-29 approveremo la manovra di bilancio per i nostri cittadini non per noi per tutti i cittadini e credo che questa sia un'altra grande dimostrazione di forza in primis della nostra leader del nostro presidenza del consiglio Giorno Beloni e altrettanto di tutte le forze politiche di noi più piccolini 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 ma insieme siamo una grande squadra ed è questo l'obiettivo che abbiamo di fronte e sapremo dare quelle risposte che i cittadini ci aspettano da decenni e oggi più che mai dovremo darle per la situazione in cui siamo quindi questo è il centrodestra un centrodestra di governo un centrodestra che guarda i bisogni di ognuno di noi dei cittadini e delle imprese che sono in gravi difficoltà grazie mille onorevole Foti vengo a lei sempre sulla manovra direi che lei è stato sempre parco sul giudizio del lavoro che svolgete il problema è molto semplice noi abbiamo cercato in questa manovra di non correre dietro alle bandiere di partito ma interpretare un'unica bandiera che ci interessa la bandiera dell'Italia perché vedete se noi non ci preoccupiamo di perseguire l'interesse nazionale è evidente che il resto vale poco e proprio perché il tema di questa nostra tavola rotonda anche se non c'è il tavolo è quello di parlare anche del centrodestra beh io penso che si debba dare atto indubbiamente a Silvio Berlusconi di aver avuto una grande intuizione per cercare di mettere insieme tutte le forze che erano alternative alla sinistra ma dobbiamo anche ricordare due personaggi di qui proprio l'unità del centrodestra che hanno lavorato negli anni perché quel centrodestra che era nato nel 94 non si sciogliesse come neve a sole purtroppo non ci sono più ma mi riferisco a Pinuccio Tattarella e Roberto Maroni perché è da lì è da lì che è partito poi anche una visione comune di cui noi siamo interpreti ma il centrodestra e consentitemelo di dire oggi potremmo iniziare a parlare anche di destra-centro se dovessimo correttamente interpretare i dati elettorali ma visto che è prevalente nell'uso comune il centrodestra il centrodestra non è solo un insieme di forze politiche per le quali spesso e volentieri si lascia spazio a retroscena io ho visto alcuni nostri incontri il giorno dopo raccontati in un modo che dicevo o non ho capito niente o si sono inventati tutto perché non c'erano verità non c'erano neanche argomenti tra quelli che venivano rappresentati che erano stati affrontati e allora voglio dire al nostro mondo che stiamo lavorando nel momento in cui questa legge di bilancio soltanto ieri ha avuto un'ammazzata perché l'annuncio dello 0,5 in più di tassi di interesse non è che sia soltanto un annuncio fatto a una certa ora che non produce effetti è un annuncio che avrà degli effetti derompenti sull'economia europea ma anche soprattutto sulla legge di bilancio italiana attualmente al nostro esame quindi il senso di responsabilità io non condivido molto l'idea che questa è stata una finanziaria come è stata detto un po' sparanina questa è una finanziaria realista è una legge di bilancio che affronta i numeri per quello che sono che racconta l'opinione pubblica non dei miti non delle idee racconta semplicemente quello che si può realmente fare in questo momento e quando qualcuno ci vuole insegnare la socialità beh vorrei ricordare che quando una legge di bilancio per due terzi va verso famiglie ed imprese cioè per chi produce reddito e per chi all'interno del nucleo familiare provvede alle esigenze dei suoi componenti beh scusatemi questa è una legge di bilancio che la sinistra non sarebbe stata in grado di scrivere è inutile che ci vengano a fare la predica e aggiungo anche una cosa che non è stata rilevata io vi auguro che in questa legge di bilancio possa trovare spazio anche un mutamento di una norma che oggi la compone noi abbiamo detto la rivalutazione delle pensioni fino a quattro volte il minimo io penso che la proposta della CISL di arrivare a cinque volte il minimo abbia molto più senso di tante altre sollecitazioni che ci vengono da un mondo esterno e che vorrebbe metterci contro quello che è il nostro elettorato di riferimento perché il nostro elettorato di riferimento è quel blocco sociale che dal 1994 ad oggi sostanzialmente ha sempre dato fiducia al centro-destra perché quando noi abbiamo perso le elezioni nel 1996 le abbiamo perse per le liste civetta non perché le avevamo perse nelle urne quando le abbiamo perse successivamente le abbiamo perse per il marchigegno di una legge elettorale non sicuramente perché non eravamo la maggioranza relativa di questo paese è giunto il momento di passare da maggioranza relativa a maggioranza assoluta sono certo che con Giorgia Meloni alla guida del governo ci riusciremo applausi 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 meritato l'onorevole Malanna signora Rosa voleva aggiungere qualcosa voleva perché è difficile una cosa volevo dire volevo portare il saluto di un senatore che non può essere qui il senatore Andrea Ugello che porge il suo saluto e credo gli mandiamo un abbraccio attraverso l'applauso ricordando che tutto il contributo di ciascuno è fondamentale e questo è lo spirito con il quale circa 30 anni fa un po' meno di 30 anni fa è nato il centro-destra basato sulla concordia di varie visioni che è arrivato al giorno di oggi con gli straordinari successi che ci sono stati a suo tempo guidato inizialmente guidato da Silvio Berlusconi oggi guidato da Giorgia Meloni ma non per alchimie di palazzo di corridoio ma perché hanno scelto i cittadini hanno scelto i cittadini con un criterio che è sempre stato quello e hanno scelto di vederci insieme le forze del centro-destra e di scegliere loro a quale fidare volta a volta la guida e l'apporto di ciascuno è stato fondamentale all'insegna di quel senza paura che è il primo slogan di Fratelli d'Italia senza paura senza sudditanze né morali né politiche né culturali verso una sinistra che non ha davvero nulla da insegnare grazie tra l'altro prima si parlava appunto della cultura in Italia del fatto che la cultura è stata monopolizzata per tutti questi anni dalla sinistra tant'è che addirittura pochi giorni fa c'è stata la polemica perché una cantante lì c'ha colo no scusate Cristina D'Avena la riminiscenza Cristina D'Avena aveva detto che avrebbe partecipato a questa manifestazione che è piuttosto sconcertante se onorevole Cattaneo lei che dice senza microfono siamo sempre a quel punto lì cioè che c'è una sinistra che ha agitato una pseudosuperiorità culturale morale e ha colonizzato alcuni ambiti del nostro paese uno è quello della cultura un altro è quello dobbiamo dircelo della magistratura che per troppo tempo è stata ad appannaggio di una parte ed è stata strumento politico contro un'altra parte noi non chiederemo di fare uguale contrario noi chiederemo di ristabilire come dire un principio per cui chi merita va avanti e chi non merita sta un passo indietro noi non facciamo uguale contrario noi siamo persone serie e la grande tratto distintivo che io credo ancora oggi ci sia tra l'area di centrodestra e con l'area di centrosinistra è proprio che noi crediamo sul serio intimamente nel valore e nel primato della persona e non dell'ideologia fatta a botteghe oscure che poi viene calata con la presunzione di plasmare la realtà io credo che straordinaria riforma dei governi centrodestra sia la sussidiarietà per questo noi chiediamo meno tasse perché dando meno tasse siamo convinti che l'imprenditore l'artigiano la partita IVA dà il meglio di sé e abbiamo fiducia nel che nel dar meglio di sé farà qualcosa di grande per sé per la famiglia ma anche per la collettività per questo noi crediamo quindi di esaltare e di liberare le risorse del singolo questo ci differenzia dall'ideologia della sinistra e anche da quell'assistenzialismo peloso invece per esempio dei 5 Stelle e di altri partiti di questo dobbiamo andarne orgogliosi e liberare le migliori energie che ci sono nel paese nella cultura nell'economia nella società grazie c'è un argomento che forse purtroppo abbiamo poco tempo però stamani Guido Crossetto qui il ministro della difesa ha detto che può esserci la possibilità di rendere di desecretare cioè di rendere pubblici i possibili armamenti che possono essere mandati nuovamente in Ucraina onorevole Molinari volevo chiedere a lei su questa proposta che ha fatto oggi Grosetto dicendo che è un'ipotesi una possibilità cioè di rendere pubblici gli armamenti che invieramo in Ucraina voi come lega che posizione avreste? ma io penso che quello che è importante è continuare a mandare gli armamenti indipendentemente dal fatto che si renda pubblico o no cosa mandiamo questa è una valutazione che per ragioni di sicurezza nazionale anche per ragioni di sicurezza dell'Ucraina dovrà fare il ministro della difesa quindi si è detto così evidentemente perché c'è la possibilità di farlo ma il punto è che noi dobbiamo difendere dei principi allora prima la prima domanda che lei mi ha fatto era quella sull'autonomia differenziata il nostro è un partito che si è sempre battuto per l'autodeterminazione dei popoli il centrodestra crede nell'autodeterminazione dei popoli è evidente che di fronte a un'aggressione militare violenta e un'aggressione militare che è un crimine internazionale contro uno stato sovrano un governo di centrodestra non può che essere senza sé senza ma dalla parte degli aggrediti e difendere il diritto all'integrità territoriale dell'Ucraina e il diritto alla sovranità di quel paese quindi quello che importa è che il centrodestra abbia una linea chiara dritta e rigorosa sul fatto che non c'è diciamo dubbio su quale debba essere la posizione la posizione deve essere quella atlantista quella che ha preso l'Europa e quella a difesa dello stato sovrano e dello stato nazionale ucraino perché questo è il nostro DNA lasciamo diciamo i dubbi e anche la propaganda facile a chi come Giuseppe Conte lo voglio ricordare sta facendo un gioco che è diciamo disarmante perché Giuseppe Conte è quello che per primo insomma ha sostenuto nel governo Draghi l'invio delle armi e la posizione atlantista ed europeista dell'Italia nei confronti dell'Ucraina di difesa dell'Ucraina e adesso per andare insomma a qualche modo a fomentare la sinistra più radicale extra parlamentare quelli della pace sempre e comunque contro ogni evidenza ha cambiato completamente posizione rinnegando se stesso perché ricordo che un provvedimento pari a quello che abbiamo votato recentemente cioè che dà la delega al governo per tutto l'anno di mandare gli aiuti militari che si ritengono necessari l'avevamo votato anche col governo Draghi di cui Conte faceva parte di cui il 5 Stelle faceva parte e l'hanno votato senza problemi quindi diciamo che loro stanno giocando su un tema fondamentale certamente molto sensibile certamente che divide l'opinione pubblica certamente che sta anche creando dei problemi evidenti dal punto di vista economico anche al nostro paese ma mentre noi teniamo dritta la barra dei valori e della posizione c'è chi per qualche voto in più sta facendo della mera propaganda sapendo che se fosse al governo farebbe esattamente quello che stiamo facendo noi ottimo grazie mille allora questo è il compleanno dei fratelli d'Italia dieci anni io l'intervento di chiusura di questo panel lo lascerei onorevole Rampelli perché mi sembra la persona più adatta sul decennale per fare il discorso da questa parte la sua voce arriva eh mi piace purtroppo bisogna leggere il labiale pensate io mi permetto di fare un paio di considerazioni poi vengo sicuramente al decennale sulla sua domanda perché la prima osservazione che volevo fare così per darla proprio in pasto alla riflessione generale anche agli amici colleghi deputati e senatori che sono qui presenti e perché no anche i giornalisti qui presenti cioè noi ci troviamo rispetto al fatto corruttivo che sta devastando l'Europa dal punto di vista della credibilità sicuramente la sta fortemente minando di fronte a una stagione che dobbiamo osservare con attenzione non dobbiamo generalizzare noi siamo garantisti tutti siamo garantisti abbiamo subito le conseguenze devastanti di una stagione demagogica che ha di fatto incrinato la credibilità dello Stato italiano dei governi del Parlamento che ricordo è comunque il tempio della sovranità popolare noi più volte abbiamo cercato di accendere il fettore rispetto ai fatti corruttivi o comunque al mal costume che regnava sovrano di fronte a un altro episodio perché noi siamo stati abituati fino alla prima Repubblica e alla seconda Repubblica a vedere la corruzione allineare negli scambi di relazioni tra soggetti che avevano comunque un potere economico finanziario particolarmente elevato oggi i fatti corruttivi di cui all'ordine del giorno sono collegati paradossalmente al mondo al cosiddetto terzo settore al mondo del volontariato al mondo dell'associazionismo al mondo della cooperazione sociale è un mondo prevalentemente ma non esclusivamente schierato a sinistra e io devo dire con rammarico che dal punto di vista dell'immagine proprio il mondo del volontariato del terzo settore delle cooperative sociali quelle antiche quelle vere quelle che fanno beneficenza quello che portano parole di conforto agli ultimi in Italia e nel mondo ne stanno subendo negativamente le conseguenze oggi non c'è un flusso di finanziamenti o almeno fin qui non c'è stato dato di riscontrare un flusso di finanziamenti ai partiti ci sono soltanto fatti corruttivi che intervengono su singoli esponenti in questo momento della sinistra italiana ma il fatto corruttivo a mio giudizio esiste intanto sul piano internazionale nella modalità con la quale è stato gestito fin qui il flusso indecente migratorio dai paesi del terzo mondo e dall'Africa in particolare non sono stati colpiti i trafficanti di uomini non lo abbiamo voluto fare ci siamo girati dall'altra parte non sono stati colpiti in maniera significativa gli scafisti abbiamo però percepito il dato ve lo ricordate l'intercettazione di Buzzi capo della cooperativa sociale già aderente al partito comunista 29 giugno che diceva si fanno più soldi con gli immigrati che con la droga e oggi Francesco Giorgi compagno della vicepresidente del Parlamento europeo dice l'ONG servono a far circolare denaro allora io mi auguro che una magistratura italiana che è un ordine dello Stato così solerte cerchi di capire perché non credo che si possano fare classifiche tra i fatti corruttivi ma se proprio vogliamo metterci del nostro e farla una classifica tra la corruzione di un ordine o di un altro ordine forse chi si fa corrompere o corrompe sulla pelle degli ultimi dei disperati delle persone che magari abbandonano la propria terra per cercare fortuna da un'altra parte chi sfrutta il terzo mondo in maniera maldestra dovrebbe sicuramente essere giudicato negativamente e noi dobbiamo difendere sia il terzo settore sano da questi delinquenti abituali ma dobbiamo anche difendere la democrazia italiana europea da chi l'ha presa in buona sostanza come un'occasione per fare soldi veniamo invece al decennale questo per noi di Fratelli d'Italia è un momento topico epocale ci abbiamo lavorato dall'inizio questo voglio dirlo perché insomma tutta la classe dirigente che viene dal famoso 27 mi pare dicembre del 2012 ha fatto un lavoro pensando comunque che esisteva nel campo della politica italiana un potenziale elettorale importante che avrebbe potuto proiettare quell'esperimento alla guida della nazione alla guida della nazione noi siamo partiti per raggiungere quell'obiettivo magari Giorgia Meloni non lo confesserà mai ma tutti noi intimamente sappiamo che l'obiettivo era quello cercare di dare alla destra italiana un volto fresco presentabile una persona che potesse essere preparata ma contestualmente umile umile pronta al sorriso e pronta alla determinazione e quando Giorgia Meloni oggi e più volte l'avete potuto ascoltare dice nelle sue uscite televisive io vado da quella parte questa è la missione della destra ed è la missione del centro destra se qualcuno vuole frapporre ostacoli e ne stiamo già percependo diversi se ne prenderà la responsabilità perché io non faccio di mestiere il presidente del consiglio ne trarrò le debite conseguenze cioè non mi piego ai ricatti non mi piego ai condizionamenti e vedete come torna l'originario slogan di Fratelli d'Italia da cui abbiamo preso il vento senza paura noi abbiamo iniziato questa cavalcata senza paura e non aver avuto paura ci ha portato alla guida della settima potenza più industrializzata del pianeta e oggi la sfida è quella di riuscire ad operare con la sensibilità del buon governo tenendo questo era il tema di oggi il decennale sì di Fratelli d'Italia ma anche il trentennale del centrodestra cercando di creare coesione sempre più coesione tra Fratelli d'Italia Forza Italia e lega per avere un blocco conservatore un blocco cattolico liberale che abbia una sensibilità diversa che è sintonizzato perfettamente sulla lunghezza tomba del popolo italiano che faccia diventare la maggioranza silenziosa una maggioranza operosa protagonista del cambiamento che cerchi in una volta per tutte di prendere questo mondo diffuso che non è intruppato non è particolarmente strutturato non è sindacalizzato a proposito è una vergogna che i sindacati abbiano taciuto per anni sopportando governi di tecnocrati non battezzati dal popolo italiano e oggi a 30 giorni dal varo del primo governo legittimamente espresso dal popolo italiano dopo 11 anni di commissariamento facciano uno sciopero e una manifestazione di piazza al giorno è una vergogna ma e concludo se tutto questo accade accade perché noi abbiamo la maggioranza silenziosa di centrodestra che era e resta tale un po' intorpidita un po' annoiata un po' pigra troppo pigra anche un po' disfattista per certi aspetti in alcuni momenti della storia italiana che si volta dall'altra parte che non reagisce che assorbe il bombardamento mediato e talvolta si fa travolgere da questo bombardamento mediatico noi la dobbiamo sollevare questa maggioranza silenziosa è anche questa la scommessa è questa la sfida farla diventare insieme a tutti noi insieme al governo Meloni la protagonista della rivoluzione dolce della rivoluzione italiana grazie mille miglior chiusura non si poteva esserci io vi ringrazio tutti anche perché so che qualcuno deve scappare e liberiamo il palco perché arriverà appunto Nordio il ministro che parlerà di giustizia grazie grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ave Maria Grazie a tutti Daniele Capezzone Il direttore del fatto Marco Travaglio E il nostro presidente della commissione giustizia Ciro Maschio Buon poeriggio a tutti Anzi buonasera Apriamo il tavolo sulla giustizia che sicuramente come sempre come ad ogni inizio legislatura è sicuramente un tema caldo sul quale è molto acceso il dibattito politico dentro e fuori il Parlamento a conferma di quanto sia un tema fortemente sentito dai cittadini. È un dato di fatto oggettivo che la giustizia in Italia è in una situazione di grave crisi da un lato legata alla durata interminabile dei processi che comporta con questo rallentamento, con questa inefficienza della macchina della giustizia, del sistema giustizia un danno anche economico importante al sistema Italia. Dall'altro c'è un tema che è quello della caduta della fiducia da parte dei cittadini nella giustizia e nella magistratura a seguito degli scandali che sono recentemente saliti agli onori delle cronache sulle quali sicuramente si deve ragionare per immaginare le analisi e le possibili soluzioni. Per quanto riguarda Fratelli Italia non c'è dubbio che due punti sui quali abbiamo sviluppato in modo particolare la nostra azione negli anni passati, che poi sono uno spunto, una base attorno alla quale si svilupperà il dibattito anche nei prossimi, e declinare quelli che sono i principi di uno Stato liberale e fondato sulla Costituzione come dovrebbe essere la Repubblica Italiana, i principi del garantismo, declinarli a difesa di due riferimenti fondamentali che sono da un lato la presunzione di innocenza del indagato fino a sentenza definitiva, ma dall'altro anche la certezza della pena. Si assiste spesso in Italia a questo paradosso. È più facile che un cittadino sia incarcerato e si aggiunga massacrato mediaticamente quando è ancora presunto innocente, arrivando quindi a ciò che diceva Carnelutti, cioè che il processo stesso diventa una pena, ed è invece altrettanto facile che questo cittadino, qualora sia condannato, arrivi spesso a non scontare effettivamente la pena. Si è rovesciato il criterio di logica sul quale invece si dovrebbe basare una giustizia effettivamente giusta fondata su un giusto processo. Io non voglio rubare troppo tempo perché ci sono degli autorevolissimi ospiti che ringrazio per la loro disponibilità, sono già stati introdotti da Giovanni Donzelli e quindi andrei subito a fare una prima domanda che parte proprio da quanto ho appena detto. Sia Daniele Capezzone che Marco Travaglio si definiscono dei liberali. Uno dei principi fondamentali dello Stato liberale, come insegna Montesquieu, è che è uno Stato fondato sul principio della separazione dei poteri. E allora chiedo se secondo voi in Italia oggi c'è una effettiva separazione dei poteri, ben bilanciata e rispettosa dei ruoli o se invece alcuni poteri dello Stato hanno impropriamente occupato lo spazio degli altri. E' accaduta conseguentemente visto che viviamo una fase nella quale la fiducia dei cittadini nei confronti della giustizia ha raggiunto i minimi termini rispetto agli anni d'oro di mani pulite. Vi chiedo se secondo voi c'è un problema di crisi seria di credibilità della giustizia e della magistratura e che quindi gli appelli rivolti dal Presidente della Repubblica ad intervenire siano fondati o no oppure se invece una volta liquidato Palamara e derubricata la questione ad un fatto individuale legato ad alcune mele marce il problema sia stato risolto. E se secondo voi invece c'è tuttora un serio problema vi chiedo quali possono essere le possibili soluzioni. Io per anche dovere di ospitalità lascerei prima di tutto la parola a Marco Travaglio per il primo giro di interventi. Grazie. Grazie. Si sente? Sì, la separazione dei poteri è scritta nella nostra Costituzione che richiama proprio il principio di Montesquieu e poi come al solito tra le norme scritte e la prassi c'è un abisso e credo fosse Flaiano che diceva che in Italia fare la rivoluzione è impossibile perché ci conosciamo tutti e quindi è inevitabile, prima veniva citato il caso Palamara uno può fare tutte le leggi del mondo ma se poi il materiale umano è così frangibile, così poroso, così permeabile a quel vizio tipicamente nostro anche se non esclusivo della conoscenza, della raccomandazione, della cordata, della corrente non c'è legge che riesca a raddrizzare le gambe ai cani, a cambiare la natura umana io per esempio le deviazioni che sono state evidenziate dal caso Palamara cioè il correntismo dentro il Consiglio Superiore lo risolverei sorteggiando i membri del Consiglio Superiore parlo dei membri togati, cioè dei magistrati mentre abolirei i membri laici perché non ho mai capito lo scriveva già Montanelli per quale motivo un organo di autogoverno della magistratura debba avere un terzo di persone scelte da un altro potere che è il potere legislativo che è un potere nobilissimo ma che deve stare per i fatti suoi e non deve interferire nell'autogoverno dei magistrati e l'autogoverno dei magistrati lo affiderei di volta in volta dei magistrati sorteggiati ci sono 9.000 magistrati hanno il potere di togliere la libertà a un cittadino quindi credo che gli si può dare anche il potere di decidere sulle nomine dei colleghi se li si estrae a sorte si evitano le cordate, le correnti, le raccomandazioni lo si affida al caso quando ci fu il sorteggio integrale nel campionato di calcio il campionato di calcio fu vinto dal Verona di Bagnoli guarda caso quindi io sono per il sorteggio e così togliamo di mezzo uno di quelli che secondo me sono certamente dei problemi interessanti, importanti, gravi ma che attengono alla categoria dei magistrati perché poi il cittadino quando incontra il giudice o il pubblico ministero in tribunale o perché è vittima di un reato o perché è imputato interessa che poi il pubblico ministero faccia il suo dovere che il giudice faccia il suo dovere ma di tutti i giochi di correnti che li hanno portati in quel posto interessa fino a un certo punto anche perché spesso i giochi di corrente portano ai vertici dei tribunali e delle procure delle persone in gamba e altre volte portano dei cialtroni come in tutte le categorie io credo che oggi se domandiamo a un cittadino normale persona normale qualsiasi come voi, come noi un cittadino che cerca di comportarsi normalmente da cittadino, bene, rispettando le regole le cose che più colpiscono della giustizia sono che si fanno troppi processi leggevo l'altro giorno ci sono due milioni di liti condominali all'anno che finiscono in tribunale ma vi pare normale ma non bastano 90.000 magistrati non 9.000 i processi nuovi ogni anno sono più di 3 milioni nel penale e altrettanti nel civile più l'arretrato quindi processi troppo lunghi abbiamo anche questa eredità che qualcuno vuole conservare altri no dei tre gradi di giudizio che non ha più senso da quando abbiamo assorbito i principi del processo accusatorio anglosassone perché se c'è una sentenza in nome del popolo italiano in primo grado è difficile immaginare che ci possa essere una sentenza diversa sempre in nome del popolo italiano in appello quindi per come la vedo io basta e avanza un grado di giudizio sul merito e un grado di giudizio sulla legittimità di quello che si è deciso nel merito quindi processo di primo grado e poi processo di cassazione sulla regolarità nello svolgimento del processo non sulla ridiscussione degli stessi argomenti che già in nome del popolo italiano hanno portato a quel verdetto troppi processi processi troppo lunghi procedure troppo farraginose che contribuiscono alla lunghezza dei processi perché non solo abbiamo tre gradi di giudizio ma abbiamo addirittura cinque fasi di giudizio perché abbiamo l'indagine preliminare il deposito degli atti l'udienza preliminare il primo grado l'appello alla cassazione poi la cassazione può pure rimandare indietro a un nuovo appello ecco perché fa abbastanza ridere parlare di separazione delle carriere perché bisogna evitare il rischio che il giudice se è collega del PM gli dia ragione perché allora bisognerebbe evitare anche che il giudice di primo grado dia ragione al GIP e che il giudice d'appello dia ragione al giudice di primo grado e che il giudice di cassazione dia ragione al giudice d'appello quindi bisognerebbe fare sette, otto, dieci carriere separate una follia per dire poi quanto questi slogan terra terra sono chiacchiere da bar troppi colpevoli impuniti se i magistrati sono impegnati a fare tutti quei processi spesso inutili o tutte quelle fasi di giudizio spesso inutili non riescono a prendere tutti o soprattutto ad assicurare alla giustizia quelli che sono stati presi siamo arrivati alla follia di una riforma che non è colpa di questo governo ma è colpa di quello precedente che anche quello non scherzava in tema di giustizia o di ingiustizia e beh la riforma cartabile che dice se il processo d'appello dopo la sentenza di primo grado dura due anni e un giorno beh in quel giorno lì il processo muore c'è l'improcedibilità che è ancora peggio della prescrizione perché non c'è nemmeno scritto chi ha fatto cosa c'è scritto chi ha avuto ha avuto chi ha dato ha dato scurdam ci ho passato naturalmente le vittime se la prendono in quel posto tanto per parlare in francese un altro problema che sente la gente è la virtualità l'alleatorietà delle pene io che pure seguo i processi da più di 30 anni non ho ancora capito per quale motivo dopo tutta la gincana che si fa nel prendere qualcuno nell'indagarlo nel farlo rinviare a giudizio processarlo in primo grado poi in appello poi in cassazione se per miracolo quello scappa alla prescrizione all'improcedibilità è una delle tante trappole che ci sono sul percorso del giudizio e si arriva finalmente a condannare uno che a quel punto è colpevole perché è sentenza definitiva di condanna e magari nella sua sentenza c'è scritto quattro anni di reclusione a casa mia quattro anni di reclusione vuol dire che quello per quattro anni lo chiudi in carcere e ci rivediamo fra quattro anni altrimenti perché scriviamo quattro anni di reclusione invece la sentenza a quattro anni di reclusione quando il condannato la legge si mette a ridere se l'avvocato gli spiega cosa vuol dire perché in Italia quattro anni di reclusione vuol dire che tu non vieni recluso nemmeno per un minuto perché fino a quattro anni di reclusione tu il carcere non lo vedi nemmeno col binocolo a meno che tu non sia un senza fissa dimora cioè un poveretto l'ultimo degli ultimi che non si può mandare i domiciliari perché non hai un domicilio per tutti gli altri quattro anni di reclusione significa zero allora io mi domando ma che senso ha ma che senso ha a questo punto nel momento in cui li arrestiamo diamogli già la sentenza con scritto zero risparmiamo quella monumentale fatica e dispendio di energie decine e decine di funzionari pubblici che lavorano per arrivare a zero tanto se l'esito è che stai a casa te lo posso dire anche subito che stai a casa poche tutele alle vittime quante volte voi sentite nei dibattiti sulla giustizia parlare delle vittime rispetto a quante volte sentite parlare della tutela degli imputati e la tutela degli imputati è importantissima perché l'imputato ha diritto a tutte le garanzie e ci mancherebbe altro l'imputato non è mica un colpevole se gli trovano i sacchi di soldi in casa io un'idea me la faccio sul fatto che sia colpevole innocente ma ci vuole ed è giusto così nella nostra civiltà liberal democratica e nel nostro stato di diritto ci vuole una sentenza definitiva che lo dica ma le vittime dei reati come si sentono in Italia poco tutelate poco tutelate da un garantismo che ha completamente falsificato il senso profondo di un valore fondamentale come quello delle garanzie durante il processo e durante le indagini e che è diventato sinonimo di impunità in Italia che differenza c'è tra uno che lavora per l'impunità e un garantista sostanziale eppure se uno è garantista si immediatamente vede uno che dice anch'io tu non sei garantista tu lavori per l'impunità è un'altra cosa e poi una giustizia di serie A e di serie B che tutti notano basta vedere le statistiche sulla composizione sociale della popolazione carceraria e confrontarle con quelle dei paesi con cui ci dobbiamo confrontare la Germania la Francia la Gran Bretagna la Spagna i paesi democratici europei più o meno grandi come il nostro recentemente ho letto la statistica che viene fatta ogni anno in Germania il 12% dei detenuti cioè di quelli che sono attualmente reclusi sono reclusi per reati contro la pubblica amministrazione o finanziari o fiscali in Italia solo 0,9 cioè statisticamente non esistono questo vuol dire che in Germania hanno 15 volte evasori fiscali corrotti e corruttori rispetto all'Italia o vuol dire che siamo scemi io credo che siamo scemi perché abbiamo molti più corrotti molti più evasori molti più bancarottieri e non gli facciamo niente ed è la ragione per cui abbiamo molti corrotti molti corruttori e molti bancarottieri perché se gli facessimo qualcosa se gli facessimo almeno Bau se ci fosse un rischio minimo nel commettere certi comportamenti devianti e dannosi per la collettività pensate quante vittime fa una bancarotta pensate al caso Parmalat al caso Cirio al caso dell'Ambrosiano i processi non iniziano mai perché ogni mattina devono leggere l'elenco delle parti civili cioè delle vittime e quando hanno finito di leggerle è finita l'udienza perché sono le 5 del pomeriggio ci sono decine di migliaia di vittime per una bancarotta vi pare normale che abbiamo le carceri pieni di ladruncoli e i bancarottieri non stanno dentro c'è qualcosa di malato in tutto questo e io credo che le vittime se ne rendano conto e credo anche che vorrebbero sentire parlare di sé le vittime e vorrebbero qualche garanzia anche loro visto che a differenza dei delinquenti le vittime non hanno fatto niente hanno subito i reati altrui ecco io ogni volta che c'è un governo spero che si occupi di queste cose e poi resto regolarmente deluso grazie sicuramente ci sono diversi spunti interessanti che potremo poi sviluppare in seguito e nel frattempo darei la parola a Daniele Capezzone per il secondo intervento grazie permettetemi 30 secondi estranei a questo dibattito ma non estranei a questa vostra riunione e al piacere di esservi invitato insieme ad ospiti così prestigiosi un anno fa se non mi sbaglio esattamente di questi tempi voi tenevate la festa invernale di Atreiu spostata in avanti per le note vicende pandemiche io seguivo per ragioni giornalistiche e vedevo ogni sera su un palco bello come questo esponenti del vostro partito vostri alleati vedevo anche però e mi pareva che si trovassero bene a dibattere civilmente nel consenso o nel dissenso tanti esponenti di sinistra tanti commentatori di sinistra tanti giornalisti di sinistra tanti direttori di sinistra anzi vi confesso da osservatore terzo mi pareva che quello fosse un momento in cui tanti da quella parte sentissero l'esigenza non so con quanta sincerità di dire che Meloni era buona e qualcun altro era cattivo bene dopodiché però ho rivisto le stesse facce con gli stessi vestiti con le stesse espressioni a agosto a settembre in campagna elettorale presentarsi come se fossero omonimi di se stessi o parenti lontani di se stessi a dire che la Meloni era una pericolosa fascista voi un'onda nera spaventosa l'Italia a noi il microfono in bocca il rischio fascismo allora io ho l'occasione di essere qui e mi dico ma che gli avete fatto a questi qua gli stavate simpatici a dicembre gli siete diventati antipatici ad agosto settembre io un'idea me la sono fatta cioè nell'Italia di oggi voi sapete chi è il fascista no? dicesi fascista un partito non di sinistra che supera il 15% così facendo vi hanno portato al 30% io comincio a sospettare che siano d'accordo con voi e voi con loro e vi porteranno al 40% agevolmente mandategli un panettone però perché francamente una sinistra così neanche se ve la foste disegnata con i vostri pennarelli diciamo vi sarebbe venuta così bene chiusa questa parentesi approfitto di questo momento io ringrazio ancora il sottosegretario del Mastro il presidente Maschio e il direttore Travaglio per un dibattito che già si annuncia bellissimo sorridendo siamo tutti in rapporti civili solo a occhio tra 45 minuti il direttore Travaglio ci dichiarerà tutti in arresto quindi diciamo approfittiamo di questa fase approfittiamo di questa fase poi entreranno dico la mia vi sorprenderà sentire che io sia molto più di quanto pensassi e molto più di quanto pensaste d'accordo con buona parte del ragionamento che ha fatto Marco Travaglio in particolare convincentissima la parte del ragionamento sulle vittime grandi dimenticate e largamente convincente secondo me tranne che nella parte sui membri laici il ragionamento sul CSM ed è molto coraggioso da parte di Marco Travaglio aderire all'argomento del sorteggio su cui come sa come è noto arrivano sempre i competenti a dire non si può fare non si può fare mi convince meno come è noto la abolizione di un grado di giudizio dov'è però che inizia il mio dissenso io ho l'impressione che in questo inizio di dibattito abbiamo preso le cose dalla coda come dovrebbe finire un processo assoluzione condanna e in caso di condanna una giusta esecuzione della pena e come si può essere in disaccordo su questo peccato che a mio avviso ci siano due elefanti nella stanza non la mucca di bersani nel corridoio ma due le fa quelle cose di cui nessuno vuole parlare troppo io li metto là il primo e non riguarda le vittime anzi le vittime sono ulteriormente rese vittime dai due mali che sto per evocare il primo si chiama uso politico della giustizia noi usciamo è inutile far finta che non sia così noi usciamo da una trentina d'anni per varie ragioni in cui un pezzo della magistratura non tutta naturalmente ma un pezzo della magistratura ha cercato più o meno facendo sponda a una parte politica di aggredire il vincitore delle elezioni che non era stato possibile sconfiggere nelle urne non sono stato in grado di sconfiggerti nelle urne e allora lavoriamo con i tempi supplementari se noi facciamo finta che questo problema non ci sia stato noi amputiamo un pezzo del dibattito dimenticate di essere di destra o dimentichino altri fuori da questa stanza di essere di sinistra dimentichi ciascuno le proprie convinzioni le proprie appartenenze i libri che uno ha sullo scaffale ma davvero vogliamo far finta di dire che in questo paese dove pure un problema di criminalità anche dei colletti bianchi c'è tutto l'esercizio dell'azione penale da parte della magistratura nei confronti del ceto politico e dei colletti bianchi è stato motivato solo da ragioni giuridiche e non anche da ragioni politiche io sfido chiunque in buona fede ad alzarsi e dire che il cento per cento delle azioni esercitate e tentate siano state per soli motivi giuridici io spero di non rivedere più chat di magistrati che dinanzi all'azione di un ministro degli interni in questo caso non del vostro partito ma che comunque compiva scelte politiche condivisibili o no ma scelte politiche che in un paese normale tu combatti sostenendo tesi politiche diverse e battendo quello schieramento politico alle elezioni spero di non vedere più magistrati in una chat che dicano noi quello dobbiamo colpirlo e altri magistrati che dicano beh ma c'ha ragione ma noi dobbiamo colpirlo lo stesso e arriva un altro magistrato che dice ma siamo indifendibili se facciamo una cosa del genere ma noi dobbiamo colpirlo ancora questa cosa qua fa vergogna fa vergogna lo dico con chiarezza un giornalismo di destra e una politica di destra che troppo spesso ha difeso su questo travaglio ha ragione lo sorprenderò ha difeso chi era aggredito per partito preso spesso prescindendo dai fatti ma fa ancora più vergogna chi dall'altra parte ha fatto finta di non vedere e di non sentire quelle chat e permettetemi di dire su quelle chat ma vi sembra normale che dopo quelle chat che dopo lo scandalo del CSM dopo il gioco delle correnti dopo la vicenda Palamara a parte il caprone espiatorio Palamara ormai trattato come il PD tratta Panzeri e Cozzolino no? cioè Panzeri e Cozzolino li si buttano dice io chi li conosce li ho mai visti e si prosegue per Palamara è stato attuato lo stesso meccanismo mi sembra normale che dopo tutta quella vicenda al CSM ci siano stati un paio di membri che si sono dimessi e il CSM è ancora lì e non è stato sciolto e prosegue e nessuno dice nulla allora io non voglio mettervi in imbarazzo ho una grave amnesia questa sera e non ricordo chi sia il Presidente del CSM so però che in altri momenti vale per il Presidente Cossiga eccetera sarebbe bastata una intemerata del Capo dello Stato anche senza la possibilità diretta di scioglierlo ma sarebbe bastata una parola come ne sentiamo ogni giorno su mille argomenti li sentiamo sul Covid li sentiamo sull'Europa lo sentiamo su tutto sarebbe bastata una parola e il giorno dopo quei signori si sarebbero tutti dovuti dimettere e invece quella parola non l'abbiamo sentita mi avvio alla conclusione di questo mio intervento perché è rimasto il secondo elefante nella stanza come si dice a Oxford qual è questo secondo elefante nella stanza è lo sputtanamento della persona indagata ma perché finiscono poco in galera anche quando sono condannati perché caro direttore Travaglio lo dico con dolore che credo ci possa accomunare a troppi non gliene frega niente del momento della pronuncia della sentenza di assoluzione o di condanna e dell'eventuale esecuzione della pena chi se ne frega il punto iniziale per troppi politici e giornalisti è sparare il primo colpo allora rileggetelo quel libro di Palamare e Sallusti rileggetelo c'è una cosa apparentemente marginale forse la più piccola nell'economia di quella conversazione ma secondo me è la più clamorosa che viene fuori quando si racconta delle correnti che si sparavano addosso per acquisire delle postazioni e diceva Palamare a volte c'era un cecchino che colpiva perfino un magistrato che era impredicato di beh uno in regime di processo accusatorio in cui la figura centrale nel processo accusatorio è il giudice è quello che pronuncia la sentenza uno si aspetterebbe che la lotta fra le correnti fosse per prendere il controllo dei tribunali no la lotta è tutta per prendere la guida delle procure ma perché prendere la guida di quella che nella logica del processo accusatorio è solo una parte perché è la parte che spare il primo colpo questa è la lotta come funziona il meccanismo dello sputtanamento io ti sparo con l'avviso di garanzia scatta immediatamente il processo mediatico le intercettazioni sacrosante nella loro esecuzione in tanti casi per raccogliere elementi per raccogliere elementi vengono però squadernate liberamente c'è notizia di reato bene non c'è notizia di reato c'è comunque lo sputtanamento no? è perché una cosa familiare una cosa sessuale qualunque cosa una cosa medica io ti ho massacrato tu prima ancora che la parte tu in questo caso oggetto dell'avviso di garanzia sei un calciatore a cui viene spezzata tibia e perone prima ancora che la partita cominci prima ancora che tu sia in grado di iniziare la tua difesa tu sei già distrutto quando poi forse sei mesi dopo sette mesi dopo il processo comincerà e tu potrai imbastire la tua difesa ma cosa te ne fai della tua difesa se nel frattempo non potevi neanche uscire di casa perché la tua vita era stata distrutta e se poi magari un anno dopo due anni dopo per caso risulti innocente anzi per costituzione lo eri innocente fino a terza sentenza ma viene pronunciata la tua innocenza che te ne fai di quella innocenza consentitemi qui e chiudo di ricordare un grande italiano che non c'è più che è stato un leader radicale accanto a Marco Pannelli e che viene citato spesso a sproposito ha ragione anche su questo travaglio da troppi appena uno è aggredito in Italia fa quel nome e si chiamava Enzo Tortore e per capirci è uno che si è consegnato per andare a processo fu indegnamente condannato in primo grado i magistrati accusatori naturalmente furono promossi in secondo grado fu assolto piccolo dettaglio disse lui mi è esplosa una bomba dentro è morto di cancro qualche tempo dopo non dimentichiamo nel computo delle vittime anche questo tipo di vittime indegno chi le usa per coprire le proprie colpevolezze ma indegno e disumano chi ci cammina sopra con gli scarponi grazie 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 anche a Daniele Capezzone chiarissimo come sempre nel toccare alcuni principi molto sentiti che condividiamo quasi totalmente passerei ora la parola torniamo siamo a casa quindi a uno dei padroni di casa che è il nostro sottosegretario della giustizia Andrea Del Mastro grazie grazie Ciro grazie a tutti voi ecco io penso che però quello che è andato in scena questa sera su questo palco questo in verità poi finto scontro fra chi dovrebbe essere l'anima nera del giustizialismo italiano e dall'altra parte l'anima nera del garantismo italiano racconta quello che diciamo noi fratelli d'Italia da tempo cioè che in verità questa guerra strisciante fra garantisti e giustizialisti ha prodotto il blocco delle riforme della giustizia perché quando sceltono in campo gli ultras è difficile trovare lo spazio per costruire assieme una giustizia che non sia più garantista o più giustizialista sia semplicemente più giusta che quando invece si dialoga ci si rende conto che le posizioni sono molto meno distanti di quanto appaiano quando vengono strillate e urlate sui giornali chi può non condividere quello che dice Marco Travaglio la giustizia si deve occupare anche delle vittime chi può non condividere quello che dice Daniele Capezzone non è accettabile una giustizia che alla fine si disinteressa del processo penale perché l'importante è il processo mediatico con il quale ti ho già rovinato l'esistenza e allora dunque chi può non condividere chi come noi dice attenzione noi vogliamo regolare le intercettazioni non già limitarle perché sono uno strumento fondamentale per contrastare la criminalità organizzata ma non possiamo più accettare che stralci di intercettazione irrilevante ai fini del processo penale finiscano sui giornali sempre perché il processo deve diventare mediatico violando la presunzione di non colpevolezza del cittadino però devo dire che mi ha stupito e sono quelle cose straordinarie che accadono solo ad Atreiu in nessun'altra festa alle feste alle feste del partito di Fratelli d'Italia da nessun'altra parte perché non è vero quello che dice Capezzone quando dice Travaglio ha eluso il tema di tutto ciò che accade durante il processo o meglio essendo Travaglio luciferinamente intelligente non lo ha eluso ma non lo ha affrontato ma in verità lo ha l'ambito perché vedi Daniele tutto quello che racconti tu è l'utilizzo politico della giustizia e Travaglio arriva alla festa di Fratelli d'Italia senza rendersi neanche conto fa un outing straordinario a Fratelli d'Italia quando dice io sarei stato per il sorteggio nel CSM perché quello è l'unico modo per eradicare quella cancrena correntizia che ha depresso il merito ha promosso per affigliazione ha promosso magistrati perché appartenevano una rete di relazioni non perché erano più bravi e promuovendoli senza merito li eterodirigeva in alcune procure per poi eterodirigere le indagini allora se tu affronti il mostro dalla testa nel CSM con il sorteggio per eradicare quello strumento hai finito di avere sacche di magistrati militanti che occupano procure indegnamente per eterodirigere indagini e non è vero quindi che lo ha eluso il tema anzi Travaglio viene a raccontare che il governo dei sedicenti migliori ha sbagliato tutto perché il ministro Cartabia aveva una grande forza perché dopo come dire quello che è accaduto con l'affair Palamara la vastità della latitudine nella profondità delle scosse in Palamara la risposta del ministro Cartabia in splendida coerenza con l'altro ministro quello i cui neuroni concepivano solo le chiusure per affrontare la pandemia cioè speranza fu tachipirine vigile attesa perché ha fatto una legge sulla CSM che per eterogenesi definisse mai sublima il potere delle correnti all'interno del CSM e solo Fratelli d'Italia ha avuto il coraggio di dire che si doveva procedere con il sorteggio contro tutti quei soloni che giocano essere gli unici intelligenti di sinistra perché conoscono la Costituzione che ci dicevano e no perché bisogna comunque la Costituzione parla di elezione dei membri del CSM certo Soloni se fai l'elezione nell'ambito dei sorteggiati o se eleggi un numero una quota superiore e poi fa il sorteggio la Costituzione è rispettata ma tu hai aggredito il cuore centrale del problema per cui in Italia i processi molto spesso sono eterodiretti quindi devo dire che in verità quando poi si dialoga ci si rende conto che le soluzioni sono a portata di mano purché si abbia coraggio purché si abbia coraggio di guardare il mostro in faccia e sapere come intervenire e guardate che introdurre il sorteggio nel CSM vuole dire garantire la libertà a quell'80 90% di giudici per bene che lavorano senza secondi fini che si sentono il tallone delle correnti sulla testa che noi dobbiamo liberare per dare nuova onorabilità sociale alla magistratura e lo dobbiamo volere non così ha fatto la cartabbia io non condivido invece mentre condivido un'altra analisi di Marco Travaglio noi abbiamo avuto il cosiddetto governo dei migliori che dopo la sgrammatica e su questo non la vedo per nulla come travaglio dopo l'infausta e sgrammatica sotto il profilo giuridico parentesi bonafediana che aveva eliminato la prescrizione creando un universo concentrazionario di indagati e imputati a vita arriva la cartabbia il governo dei migliori che ha realizzato in un solo governo il male della giustizia italiana cioè aveva le due bocche di fuoco da alimentare quella manettara per cui non si poteva ripristinare la prescrizione che è un istituto a tutela del cittadino d'altro canto scusami Marco ma se un magistrato ci mette più di sette anni e mezzo a stabilire se io ho rubato un pacco di patatine all'eslunga con i video e i vigilantes e beh insomma si arrenda che dopo sette anni e mezzo posso anche essere lasciato libero io o lavori un po' di più magari ma al posto di ripristinare la prescrizione la cartabia decide di mantenere l'eliminazione della prescrizione ma introduce l'improcedibilità in appello e su questo sono d'accordo con te l'improcedibilità in appello è una mannaia è una corsa contro il tempo contro la magistratura per l'accertamento della verità storica dei fatti o quantomeno della verità processuale dei fatti non è possibile per fratelli d'Italia immaginare che in appello un processo per mafia debba durare due anni prorogabili se il processo è complesso e superati quello però poi arrivederci e grazie perché lo Stato deve avere il diritto e il tempo per accertare la verità storica basta ripristinare la prescrizione che collega la prescrizione appunto alla pericolosità sociale del reo e alla gravità del reato quello che abbiamo prodotto è un Frankenstein giuridico indegno di una nazione normale invece devo dire che mi sento molto capezzoniano quando Marco invece ritiene che non sia un problema centrale la separazione delle carriere vedi Marco io ritengo che chiunque entra in un processo penale avverta una sgradevole sensazione l'avvocato è un ammennicolo fastidioso rispetto ad un potere che si sente unito dalla concentrazione delle carriere cioè magistratura inquirente e requirente e il cittadino ha proprio la percezione che non vi sia ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione un giusto processo contraddistinto dalla parità processuale fra le parti e dalla terzietà dell'organo giudicante loro si sentono sulla stessa parte della barricata dall'altra parte ci sarebbe l'avvocato che sarebbe quello fastidioso che dovrà come dire cercare di evitare le grane nel processo no da che mondo è mondo nel contrasto degli interessi emerge la verità purché colui o quella almeno la verità processuale purché colui che deve decidere la verità processuale sia diverso distinto e distante dai due che combattono nel processo e allora la separazione delle carriere incide e come su un processo che si è improntato ai criteri del giusto processo di cui l'articolo 111 della Costituzione e allora noi di Fratelli d'Italia anche per il tramite di confronti come questi vogliamo consegnare ai nostri figli non una giustizia più garantista e non una giustizia più giustizialista ma semplicemente una giustizia dove indagato e imputato sono presunti non colpevoli sino alla condanna passata e ingiudicato dove indagato e imputato non debbano più preoccuparsi prima del processo masmediatico che di quello giuridico dove però quando diventi colpevole non si aprono più le porte del paradiso con le misure alternative alla detenzione perché dopo una condanna passata e ingiudicato con questo siamo d'accordo con te ci deve essere la certezza della pena a partire dal carcere per poi meritarti eventualmente le misure alternative grazie grazie sottosegretario credo che già questo primo giro di domande abbia spaziato anche più del dovuto come immaginavamo perché gli argomenti sono tantissimi e di grande interesse quindi io credo dando un'occhiata anche al cronometro che possa essere sufficiente un secondo giro di domande e un'eventuale battuta finale conclusiva nel quale si possono approfondire i temi che avete anticipato quindi dedicherei solo 30 secondi a un altro tema che è importantissimo ma che forse diciamo interessa un po' meno al dibattito quotidiano e cioè quello che già ha annunciato il ministro Nordio dicendo che illustrando alle commissioni di giustizia della camera del senato le linee programmatiche del suo di Castero ha annunciato che la priorità assoluta sarà affrontare l'emergenza economica e quindi un intervento importante in particolar modo sulla giustizia civile sappiamo che mediamente è un processo civile in Italia sui tre gradi di giurizio arriva a durare sette anni i dati della Banca Mondiale ci dicono che la lentezza e l'arretrato dei processi soprattutto quelli civili ma non solo in Italia generano un deficit del PIL che va dall'1 al 2% e quindi le prime misure su cui il governo interverrà saranno nel cercare di efficientare la macchina della giustizia di intervenire efficacemente sui processi civili di favorire la digitalizzazione della giustizia e quindi di rispettare quelli che sono gli impegni presi con l'Unione Europea nella attuazione di quanto previsto anche in collegamento con le risorse del PNR sulla giustizia italiana quindi su questo ovviamente se ritenete di aggiungere qualche riflessione è assolutamente gradita perché la giustizia civile fa meno effetto diciamo nel dibattito mediatico ma ha un'incidenza molto significativa invece nel sistema economico dell'Italia cito sempre il ministro Nordio e passo poi quindi con questo al secondo giro di domande andando ad entrare più nei dettagli di quello che già avete anticipato cito testualmente quanto il ministro ha scritto e detto nelle linee programmatiche la presunzione di innocenza è stata continuamente vulnerata in molti modi l'uso eccessivo e strumentale delle intercettazioni la loro oculata selezione con la diffusione pilotata con la quale l'azione penale diventa arbitraria e quasi capricciosa l'adozione della custodia cautelare come strumento di pressione investigativa e lo snaturamento dell'informazione di garanzia che diventa una condanna mediatica anticipata su questi temi il ministro intende affrontare un dibattito parlamentare intende intervenire così come intende intervenire anche su alcuni reati sui quali si esprime in modo particolarmente elastico e creativo a seconda delle intenzioni del PM quella che è la discrezionalità e cioè reati come il traffico di influenze e l'abuso d'ufficio quindi il modo in cui sono gestite le intercettazioni in Italia secondo voi oggi va bene rispetto al contesto europeo o è giusto riequilibrarlo il modo in cui è gestita oggi la custodia cautelare va bene o sarebbe meglio ritornare ad avere la pena alla fine del processo anziché prima della fine del processo quando si è presunto innocente e un intervento su alcuni reati che consentono di alimentare quell'uso politico della giustizia che poi diventa fallimento nella azione vera di contrasto della corruzione possono essere riformati o è un reato pensare solo di toccarli invertirei l'ordine degli interventi darei la parola a Daniele Capezzone e poi proseguiamo con gli altri grazie ma intanto se posso partire da un elemento di metodo perché poi a volte le cose semplici ci sfuggono qui abbiamo un presidente di commissione qual è la prima cosa che un ministro qualunque ministro qualunque ministro non solo della giustizia deve fare e spesso vergognosamente da troppe legislature magari tarda a fare la prima cosa che un ministro deve fare è presentarsi davanti alle commissioni parlamentari di competenza che dovranno esercitare vigilanza ispettiva e controllo su di lui e concorrere con lui alla definizione dell'indirizzo politico ed esporre il suo programma e questo è esattamente ciò che Carlo Nordio ha fatto dieci giorni fa il giorno prima al senato il giorno dopo alla camera cioè si è compiuto pensate che notizia il più normale degli atti di rapporto tra governo e parlamento che possa compiersi se voi prendete i giornali del giorno dopo sembra che Nordio sia entrato in parlamento con delle bombe a mano in tasca pronto a farsi esplodere ma che cosa doveva fare il ministro della giustizia cosa ci si aspettava che il ministro della giustizia andasse in parlamento e dicesse a me del programma con cui sono stato eletto non me ne frega nulla del partito per cui sono stato eletto non me ne frega nulla tutte le mattine ascolto per prima cosa i podcast di Andrea Scanzi tutte le sere voglio e provo ai polsi le manette griffate da Vigo andate tutti a quel paese ma perché il ministro ha compiuto un atto di normalità esponendo il suo programma condivisibile o no che sia dal punto di vista di ciascuno ci sono state due secondo me splendide audizioni alla Camera e al Senato con eccellenti interventi del ministro dei parlamentari di maggioranza e anche spesso di buon livello secondo me alcune obiezioni non pregiudiziali da parte di parlamentari di opposizione ma ripeto fate l'esercizio di prendere i giornali del giorno dopo lasciate da parte il fatto quotidiano che fa benissimo il suo mestiere e che ha sparato a palle incatenate giustamente e penso che Nordio stesso sarebbe rimasto deluso se il fatto quotidiano avesse sparato me ma leggere su Repubblica Nordio come Nerone sulla stampa Nordio Berlusconiano da un'altra parte non so chi ha detto intervenga il CSM ma come intervenga cioè a parte il CSM sempre quello di prima asserragliati lì dentro in attesa che i carabinieri li portino fuori ma a che titolo il CSM vedete la sgramma noi ormai accettiamo accettiamo la sgrammaticatura che si possa dire qualunque cosa che doveva fare il CSM doveva fare una delibera di censura politica della relazione programmatica del Ministro ma roba da pazzi roba che dovevano entrare due robusti infermieri non al CSM in questo caso ma nelle redazioni dei quotidiani dove è stata sostenuta questa tesi o ancora più comici di tutti perché peggio dei giustizialistici sono solo alcuni garantisti ho letto su qualche giornale e ho sentito anche da parte di qualche senatore molto garantista per la sua famiglia il seguente sofistica non faccio nomi solo il cognome Renzi ho sentito il seguente argomento dice ah bene alcune cose che ha detto Nordio bravo ora speriamo che non se ne accorga la Meloni ma come scusa ma chi è che ha voluto Nordio nelle liste di Fratelli d'Italia e chi è che ha proposto al Presidente della Repubblica la nomina di Nordio cioè vogliamo ripristinare un minimo di normalità e di onestà intellettuale nella discussione pubblica smettiamola primo di aggredire le persone di giocare sul pallone e non sulle gambe secondo cominciamo a rispettare la fisiologia il Ministro va in Parlamento espone la sua tesi parere personale a questo punto porti molto presto in Parlamento dei provvedimenti molto presto in particolare se intende fare anche riforme non solo ordinarie ma anche costituzionali vada presto dal punto di vista dell'opposizione perché l'opposizione possa discutere dal punto di vista della maggioranza perché essendo lì necessari quattro passaggi parlamentari non è il caso di perdere tempo mi avvio alla conclusione una cosa che spero di non vedere una cosa che spero vivamente di vedere una cosa che spero di non vedere ho già detto del CSL voglio sperare lo dico con grande rispetto che non ci siano interventi a gambatesa della associazione nazionale magistrati chiariamoci chiariamoci anche qui che cosa dovrebbe essere l'associazione nazionale magistrati legittimamente ultra legittimamente il sindacato dei magistrati ex articolo 39 della costituzione ogni categoria professionale lavorativa eccetera ha diritto a che ci sia una sua organizzazione sindacale eccellente la quale ha diritto a svolgere la sua attività sindacale ha diritto ci mancherebbe altro e guai a chiunque voglia conculcarla alla sua libertà di parola alle sue prese di posizione può fare tutto l'unica cosa che non può fare è trasformarsi lei stessa o il CSM che controlla attraverso le correnti in terza camera che pretenda di contendere l'esercizio della funzione legislativa alla camera e al senato questo non è possibile chi e io per mia storia io ho definitivamente lasciato la politica ma ho fatto per anni politica e sono l'ultima persona a poter scoraggiare la passione politica e anche la voglia di scrivere leggi di chi che sia ma chi ha passione politica e chi ha voglia di scrivere le leggi faccia il piacere di candidarsi alle elezioni di farsi eleggere in Parlamento se è in maggioranza di fare la maggioranza se è all'opposizione di fare l'opposizione ma tu non puoi usare né la NM né il CSM come terza camera abusiva e autonominata che contenda al Parlamento della Repubblica le funzioni che il Parlamento della Repubblica intende svolgere ultima osservazione ho dedicato molto tempo agli aspetti di metodo desidero però dedicare un momento finale a una questione di merito mi sono già espresso prima sulle intercettazioni mi sono già espresso prima sull'abuso della custodia cautelare mi sono già espresso prima su tutta la fase pre-processuale e di processo mediatico che serve a precostituire il sacrificio umano prima ancora che il processo cominci e ben prima che finisca con una soluzione con una condanna è rimasta la questione della separazione delle carriere io sono sempre contrario alla evocazione delle persone scomparse per sostenere una tesi tranne in un caso quando si cita letteralmente ciò che la persona scomparsa diceva senza alcun commento su Repubblica il 3 ottobre del 1991 comparvero queste righe che vi leggo testualmente il giudice in questo quadro si staglia come figura neutrale non coinvolta al di sopra delle parti contraddice tutto ciò quindi contraddice il ruolo di giudice neutro al di sopra delle parti il fatto che avendo formazione e carriere unificate con destinazioni e ruoli intercambiabili giudici e PM siano in realtà indistinguibili gli uni dagli altri e ancora prosegue l'autore chi come me richiede che siano due figure strutturalmente differenziate nella competenza e nella carriera viene bollato come nemico dell'indipendenza del magistrato e ancora più avanti è veramente singolare che si voglia confondere la differenziazione dei ruoli e la specializzazione dei PM con questioni istituzionali totalmente distinte chiuse virgolette l'autore di queste righe è Giovanni Falcone allora io vorrei capire perché in questo paese giustamente quando si fanno alcune citazioni di Giovanni Falcone quelle citazioni sono indiscutibili quando si fanno altre citazioni di Giovanni Falcone o non hanno diritto di cittadinanza o vengono buttate nell'oblio come se improvvisamente Falcone scrivendo queste righe non fosse compos sui non fosse padrone della materia o meglio ancora padrone di una sua legittima opinione che si può condividere o non condividere ma smettiamola con quelli che sono adoratori di Giovanni Falcone nei giorni pari e poi seppellitori nei giorni dispari della lezione di Giovanni Falcone quando a loro non fa comodo grazie grazie Daniele Capezzone darei la parola a Marco Travagli si raccolgo il tuo appello a dire una cosa sul civile cito un magistrato vivo così mi può smentire Pier Camillo Davigo che dice sempre che all'estero per minacciare qualcuno gli dici ti faccio causa in Italia per minacciare qualcuno gli dici fammi causa questa è la differenza fondamentale tra il nostro civile e all'estero perché perché da noi perché da noi si sa benissimo che chi intraprende una causa civile non sa diciamo quale grado di discendenza riuscirà a vedere la sentenza questo dipende dalle stesse ragioni per cui è lento il processo penale perché si fanno troppi processi e perché ci sono troppe farraggini bisognerebbe mettere un forte fortissimo filtro alle cause e un forte fortissimo filtro alle impugnazioni sia nel penale che nel civile per evitare tutte quelle impugnazioni che sono fatte soltanto per perdere tempo e per rinviare il momento in cui chi deve pagare paga io sono un grande esperto di civile perché vengo continuamente denunciato in sede civile per danni da persone che vogliono i soldi miei e del fatto quotidiano per le cose che scrivo ma questo capita a tutti i giornalisti penso che sarebbe un ottimo disincentivo o almeno un'ottima norma garantista penso di sì garantista per noi denunciati che chi ci chiede milioni o miliardi mettesse una cauzione sul tavolo calcolata in percentuale ai soldi ai soldi che chiede se vince la causa li prende se la perde li lascia vedreste che molti abbasserebbero le penne e molti eviterebbero di fare cause inutili temerarie fatte soltanto per intimidire per minacciare ma anche quelle temerarie vanno avanti naturalmente e impegnano magistrati che invece magari dovrebbero occuparsi di cose serie venendo invece ai nostri argomenti penali io se ci fosse stato qua a Nordio mi dispiace che non sia venuto gli avrei detto di provare a mettersi nei panni di un delinquente ha fatto il magistrato per una vita ne ha conosciuti tanti ne ha indagati tanti ne ha fatti processare e condannare tanti mettiti nei panni di un delinquente Nordio il delinquente di che cosa ha paura ha paura di essere preso cioè di essere intanto scoperto poi di essere preso poi di essere processato poi di essere condannato poi nel caso di condanna di dover veramente scontare la pena e poi di essere espulso per poco tempo o per tanto tempo dal consenso civile queste sono le paure che ha il delinquente ora io credo che quando un delinquente legge una dichiarazione che ha fatta l'altro giorno la vostra leader Giorgia Meloni che ha detto noi siamo garantisti durante il processo e giustizialisti dopo la sentenza di condanna si preoccupa il delinquente quando sente che il sottosegretario del Mastro vuole mettere come capo del DAP il procuratore Gratteri il delinquente si preoccupa quando legge che poi ci hanno messo un altro si tranquillizza quando legge le interviste e le dichiarazioni programmatiche di Nordio stappa lo champagne perché scusate ritorniamo ai timori che ha il delinquente essere scoperto come si scoprono i delinquenti nel 2022 quando ormai si comunica su Telegram sulle chat più o meno criptate sulle email criptate addirittura alcuni sul dark web quando si scambiano soldi con i bitcoin quando si scambiano i soldi anche in maniera tradizionale come stiamo vedendo al Parlamento europeo con le borse con le mazzette con le buste quando con un click telematico si spostano bonifici da un capo all'altro del mondo i delitti si scoprono e sto parlando anche di narcotraffico non sto parlando soltanto di corruzione si scoprono intercettando la gente non ci sono altri strumenti io ogni tanto sento parlare di qualche nostalgico dei vecchi sistemi di indagine sì va bene quelli che seguono le impronte dei piedi quelle robe lì non si va da nessuna parte oggi sente il ministro che dice per prima cosa che le intercettazioni sono quasi tutte inutili e che comunque vanno ampiamente ridotte e infatti è stato ridotto il bilancio in questa legge finanziaria per le intercettazioni perché non è con le intercettazioni che si scoprono i delinquenti come li si scoprono non lo so forse si spera che si consegnino tutti o che si facciano un click o che si facciano il selfie mentre delinquono mentre ficcano il coltello nella pancia della vittima si fanno l'autoscatto e poi si consegnano in quel caso non c'è bisogno di fare altri tipi di indagini poi il delinquente ha paura di essere arrestato ma Nordi ha detto che c'è un abuso di custodia cautelare bisogna ridurre molto la custodia cautelare perché il carcere bisogna darlo alla fine del processo senza calcolare ed è incredibile che a dirlo sia un ex magistrato che il processo non lo fai nemmeno se certa gente non la ficchi dentro subito perché il processo si fa se si riescono a trovare le prove ma se si lasciano in libertà certi delinquentoni delinquentoni hanno tutto il tempo prima del processo di far sparire le prove di far sparire i testimoni se sono mafiosi con la lupara bianca non li trovi più se sono più raffinati li vanno a minacciare in modo da farli star zitti oppure scappano e quindi processi dei fantasmi e per questo che esiste non in Italia giustizialista in tutto il mondo la custodia cautelare prima del processo per evitare che si inquilino le prove che si scappi o peggio che si reiterino reati cioè che si continui a delinquere perché ci sono dei delinquenti seriali che non sono solo i serial killer sono anche i corrotti seriali i truffatori seriali i spacciatori seriali ci sono i delinquenti abituali cioè quelli che vivono di delitto Nordi ha già detto che ci saranno meno arresti e meno custodie cautelari e poi ha cercato in vano in quelle proposte di legge un qualcosa che a brevi anche di tre ore la durata media dei processi non l'ha trovato anzi si studiano collegi di tre giudici al posto dei giudici monocratici per decidere sulle misure cautelari così i giudici dovranno fare in tre quello che adesso fa uno e così avremo ancora processi più lunghi poi Nordio ha dichiarato che non è detto che gli anni di reclusione si debbano scontare in galera la parola reclusione diventa elastica reclusione vuol dire chiudere invece secondo lui vuol dire aprire e quindi pene alternative quindi stai fuori stai ai servizi sociali stai agli arresti domiciliari tanto nessuno ti controlla quindi è come stare fuori e questo dovrebbe naturalmente spaventare il delinquente che sta molto attento quando cambia il ministro sta molto attento per capire che cosa ne sarà di lui perché un medico sta a sentire quello che dice il nuovo ministro della sanità il delinquente sta a sentire quello che dice il nuovo ministro della giustizia il detenuto sta a vedere chi gli mettono a capo delle carceri cioè a capo del DAP ognuno sta a sentire il ministro che riguarda la sua professione alla fine ha anche scoperto che forse se lo condannano può tornare in Parlamento il nostro delinquente perché Nordio ha anche detto che bisogna smantellare la legge Severino che ci aveva risparmiato almeno quel malcostume unico al mondo dei pregiudicati che frequentano le aule parlamentari a questo punto io mi domando se fossi un delinquente ma di che cosa dovrei avere paura e mi domanderai ma com'è possibile che la Meloni abbia detto dobbiamo essere garantisti durante il processo e giustizialisti dopo la sentenza definitiva e che poi tutta la maggioranza di centrodestra più naturalmente la stampella di Renzi e Calenda abbiano votato dentro al decreto Reiv la norma che stabilisce che i reati contro la pubblica amministrazione non sono più ostativi alla concessione dei benefici per i tenziari io ho molto apprezzato quello che diceva Del Mastro un attimo fa dopo la sentenza nessun beneficio per i tenziari ma allora perché avete votato l'esclusione dei reati contro la pubblica amministrazione dalla lista dei reati ostativi alla concessione dei benefici penitenziari che il famigerato Bonafede aveva aggiunto perché in quella lista ci sono i reati di mafia i reati di terrorismo i reati di pedopornografia i reati di violenza sessuale persino il contrabbando a un certo punto ci hanno messo se erano dimenticati la corruzione la concussione il peculato cioè quelli che rubano i soldi dello Stato cioè i soldi di tutti noi è stata riempita quella lacuna due anni fa adesso è stato votato una cosa proposta da Forza Italia ma votata da tutto il centro-destra e dal cosiddetto terzo polo che è sesto per evitare che uno condannato a quattro anni per avere derubato la collettività se c'è scritto quattro anni di reclusione faccia qualche giorno di reclusione e per assicurarsi che non ne faccia nemmeno uno con tutti i benefici penitenziari che vengono concessi ai reati che sono fuori dalla lista di quelli ostativi io mi domando per quale motivo se fosse un delinquente dovrei essere preoccupato ma mi domando anche non essendo un delinquente che cosa mi trattiene dal diventarlo perché certi reati sono talmente lucrosi e convenienti che se non c'è una controspinta in senso contrario che ti fa capire che rischi grosso ma devi avere una corazza etica formidabile per non essere tentato di commetterli perché se non ti capita niente alla fine di quella enorme macchina trita acqua a cui abbiamo trasformato la giustizia ma quale ragione al mondo ti deve impedire di diventare anche tu un delinquente ed è questo il modo che ha il governo italiano per affrontare un'emergenza europea di corruzione che sta venendo fuori cos'è uso politico della giustizia da parte della magistratura belga anche questa storia dell'uso politico della giustizia ma in base a cosa si decide in base al colore dell'imputato allora in questo momento la procura belga sta facendo un uso politico della giustizia perché ha preso tutta gente del gruppo del centro-sinistra europeo no semplicemente ha trovato le prove su quelli e ha preso quelli i giornali cosa stanno facendo stanno mettendo all'agonia Panzeri Cozzolino Laccaili il fidanzato portaborse eccetera ci stiamo mettendo all'agonia qualcuno stiamo anticipando il giudizio di colpevolezza no stiamo dicendo che avevano le case piene di sacchi di valigie e di buste con le mazzette magari non è reato per carità però intanto si deve sapere abbiamo detto che sono colpevoli di corruzione no abbiamo detto che ci avevano in casa i soldi li abbiamo sputtanati no si sono sputtanati loro io per non essere sputtanato non vado in giro con le valigie piene di mazzette così non mi sputtana nessuno se mi intercettano sentono da me le stesse cose che dico in televisione che dico qua oggi che scrivo tutti i giorni sul giornale se pubblicano le mie intercettazioni scopriranno al massimo che dico qualche parolaccia in più anche se ne dico pure non solo al telefono ma anche in pubblico ma chi se ne frega l'intercettazione fotografa esattamente quello che fai negli ultimi vent'anni la garante della privacy ha sanzionato dodici casi di violazione della privacy dalla pubblicazione di intercettazioni dodici su migliaia e migliaia di intercettazioni fatte in questi anni comprese quelle che faceva Nordio quando faceva il magistrato e non mi pare che gli facessero tanto schifo nell'inchiesta sul Mosa ha fatto arrestare 35 persone ne ha fatte indagare 100 ha intercettato migliaia e migliaia di bersagli anche per due anni consecutivi che cos'era gogna mediatica e quando noi hanno arrestato le persone e noi dagli avvocati abbiamo avuto gli atti abbiamo pubblicato le intercettazioni di Galan del sindaco di Venezia e cosa abbiamo fatto gogna qualcuno ha pilotato per fini politici quindi Nordio no abbiamo fatto il nostro dovere di cronisti che quando ci arrivano gli atti giudiziari perché sono depositati alle parti e quindi sono non più segreti li pubblichiamo punto fine è capitato una volta ogni 200.000 che saltasse fuori il messaggio di Anna Falchi a Ricucci con scritto ti amo sai che sputtanamento poi mi è dispiaciuto per Anna Falchi non l'ho pubblicato io l'ha pubblicato un altro giornale ma stiamo parlando di questo quindi bisogna anche stare attenti a tutte queste cose quando si parla di abusi bisogna dire questo abuso non ci sono degli abusi bisogna essere dettagliati e garantisti anche quando si lanciano accuse ai magistrati perché sono sembra che ogni volta che un giornale pubblica qualche notizia di qualche indagine c'è un magistrato che sotto banco gliel'ha passata a me non è mai capitato a me capita di aspettare che qualcuno venga arrestato che venga depositati gli atti alla fine dell'inchiesta per averli dagli avvocati che li hanno lecitamente è così che funziona io lavoro su questo non ho mai conosciuto un magistrato infedele che mi desse delle intercettazioni prima di fare gli arresti anche perché un magistrato non è scemo se vuole arrestare qualcuno non lo avverte prima che lo stanno tenendo d'occhio se no quando lo vanno a prendere non lo trovano o quando gli intercettano il telefono chi è intercettato e sa di essere intercettato dice quello che vuole che il magistrato senta quindi liberiamo il campo dalle leggende ci sono stati degli abusi benissimo sono stati sanzionati ma 12 abusi in 30 anni non giustificano il fatto che si sbaracchi tutto il sistema di repressione penale perché altrimenti non acchiappiamo più i ladri ma non parlo dei politici che sono lo 0,01% degli indagati parlo di tutta la criminalità di un paese che ha quattro regioni in mano alle mafie e che se lo dimentica scusate la prolissità ci restano 10 minuti Massimo ne userò di meno ne userò di meno Daniele Capezzone sono sicuro che mi scuserà se non mi riferirò a lui ma devo da una parte rintuzzare dall'altra parte rincuorare Marco Travaglio mi verrebbe da dirti mi hai convinto o meglio forse mi avresti convinto se io non avessi letto le linee programmatiche di Nordio e non avessi contribuito a scrivere la norma sull'ergastolo stativo la destra no no però è lì che c'è la spazzacorrotti anche allora ti rintuzzo e ti rincuoro se governa il centro-destra Rezio se governa la Meloni e la destra assieme al centro-destra stai pur certo che le intercettazioni come strumento straordinario eccezionale per contrastare la criminalità in particolar modo quella organizzata rimarranno e non depriveremo la magistratura di questo strumento per accertare il crimine io non ho letto che verranno tolte le intercettazioni ho letto una cosa diversa ho letto mai più un uso politico strumentale delle intercettazioni per il tramite del circuito mediatico ho letto ispezioni generali puntuali su quelle procure che le distribuiscono anzitempo evidentemente le ispezioni non ci saranno se arriveranno il termine dell'indagine perché non c'è nulla da ispezionare mi hai convinto o meglio mi avresti convinto se non avessi letto con attenzione le linee programmatiche di Nord io non avessi avuto l'onore di comporre assieme a Ciro Masco Carolina Varchi ed altri ragazzi del partito che si occupano di giustizia il programma di Fratelli d'Italia sulle misure cautelari stai pur certo fin quando governa il centrodestra scusami meglio la Meloni e la destra con il centrodestra le misure cautelari per arrestare spacciatori stalker in costanza di reiterazione del reato ci saranno perché noi vogliamo garantire sicurezza sociale ai nostri cittadini non ho letto che Nordio vuole togliere le misure cautelari ti ricorderò che il partito che durante il referendum folle sull'abolizione delle misure cautelari per reiterazione tradotto per il pubblico oggi le misure cautelari sono di tre tipi inquinamento probatorio fuga pericolo di fuga o reiterazione del reato da avvocato vi dico che lo spacciatore inquinamento probatorio è dura ci sono i video lo hanno beccato con la roba lo hanno beccato con i soldi mentre cedeva non c'è pericolo di fuga non c'è rimane la reiterazione se noi avessimo tolto la reiterazione come presupposto per arrestare non avremmo più arrestato un solo spacciatore o un solo stalker prima che aggredisse frontalmente la donna tanto è vero che noi eravamo serenamente e ottimamente seduti dall'altra parte rispetto anche ai colleghi del centro-destra che invece erano a favore di quella cosa e neanche Nordio però ha detto no io toglierò le misure cautelari io voglio che non se ne faccia più un uso snaturato delle misure cautelari vedi se io devo arrestare uno spacciatore ti so dire qual è la misura la reiterazione io so che quello che vive solo di spaccio se non lo fermo continuerà a spacciare io invece ipotizzo che il sindaco di no non diciamo un paese perché porta male che un sindaco sia un corrotto c'ho l'indagine in corso lo fermo se lui si dimette da sindaco cosa che fanno spesso si dimettono come può reiterare come può inquinare perché dovrebbe fuggire se io lo metto dentro e gli dico solo se parli ti faccio uscire allora quello è l'uso snaturato delle misure cautelari perché non sono volte a provocare una confezione sono volte a fermare il criminale e fino a quando ci sarà la destra continueremo a fermare i criminali ma non provvederemo confessioni non genuine questo è certo l'ultima mi hai convinto anche su lo spazza corrotti anzi mi avresti convinto se io non sapessi veramente come è andata vedi il governo Meloni è fiero del suo primo atto c'era il problema di questa Europa che ogni tanto non capisce che magari anche l'Italia in verità potrebbe insegnare qualche cosa all'Europa e siamo arrivati al paradosso che la CEDU poi anche per il tramite di una corte costituzionale italiana ha insegnato all'Italia come affrontare la mafia l'andrangheta e la camorra direi che forse noi dovremmo insegnarlo a loro soprattutto se quella normativa arrivava proprio era frutto del sangue di Falcone Borsellino bene il primo atto di questo governo è stato rispescare tutto quello che si poteva ripescare della norma del carcere duro e dell'ergastolo stativo contro i mafiosi perché se no se così non avesse fatto a Giorgia Meloni oggi erano già fuori tutti dentro lì è vero c'era anche lo spazzacorrotti io sono dipinto impropriamente improvvidamente ingiustamente come un giustizialista io non sono né giustizialista né garantista io vorrei superare questi orri di 30 anni di guerra strisciante per dare una giustizia più giusta a mio figlio in quella giustizia più giusta il mafioso è il cancro della società e non può essere equiparato lo dico sinceramente a nessun altro tipo di delinquenza la spazzacorrotti equiparava fenomeni delinquenziali di altro tipo al mafioso il risultato finale è che rischiavamo di liberare i mafiosi perché se tutto è mafia niente mafia la mafia è mafia con la mafia pugno di ferro spietato la spazzacorrotti deve uscire dalla legislazione speciale antimafia si può lavorare anche per un forte contrasto alla corruzione ma non chiamiamo la mafia corruzione perché se no qualcuno si alza in piedi come l'Europa e ci fa dato che è troppo duro quel regime per i corrotti aboliamolo anche per i mafiosi mentre noi la durezza più spietata contro la mafia la vogliamo mantenere sapendo che ci sono livelli diversi il primo problema è la mafia poi ci sarà la corruzione e poi gli altri reati perché è solo così con la eccezionalità del fenomeno mafioso che tu giustifichi posizioni giuridiche durissime nel solco della Costituzione è quello che abbiamo fatto signori abbiamo spezzato la normativa come è sempre stata prima dell'infausta parentesi grillina al potere che ha unificato la corruzione ai mafiosi abbiamo usato il pugno di ferro con i mafiosi abbiamo sottratto dall'area della mafia la corruzione perché tale non è lo capiscono tutti e continueremo a contrastare la corruzione con tutti i fenomeni con tutti gli strumenti che abbiamo fra cui anche le intercettazioni e in ultimo la Severino anche lì mi hai convinto o meglio mi avresti convinto se io non avessi letto esattamente quello che ha detto Nordio e se non sapessi che governa non il centrodestra ma la Meloni con la destra assieme al centrodestra noi abbiamo detto una cosa semplice la Severino interviene sugli amministratori comunali non sui deputati già dopo una sentenza di primo grado provocando la esclusione dall'attività politica il commissariamento dei comuni salvo poi magari dopo cinque anni scusa in appello ti abbiamo assolto però ormai tu sei un uomo morto allora noi abbiamo detto la Severino che è di contrasto alla corruzione valga per tutti come per i deputati dopo la sentenza passata in giudicato se sei un corrotto non rappresenti più il popolo italiano ma non ti faccio decadere prima che la sentenza passi in giudicato questo ne vogliamo fare fare una modifica della Severino che garantisca i nostri pubblici amministratori di quei comuni dove molto spesso fai l'amministratore proprio per volontariato alla luce di quello che guadagna a fare l'amministratore e dare a loro le garanzie che hanno i deputati cioè e che dovrebbero avere tutti i cittadini le conseguenze di una condanna sono tali quando la condanna è passata in giudicato ma stai pur certo anche qui che fino a quando governa in questo caso soprattutto Giorgia Meloni a prescindere i fenomeni corruttivi non sono se accertati con sentenza passata in giudicato non potranno più lambire la politica perché Giorgia Meloni nella sua vita ha sempre dimostrato che contro la corruzione non perché in tema di corruzione non fa sconti a nessuno poi ha anche dimostrato viva il Dio di conoscere i principi garantistici e liberali dello Stato italiano sei corrotto quando sei stato contannato con sentenza passata in giudicato scusate se ne ho approfittato grazie grazie Andrea Del Mastro ho capito perché non è venuto Nordio ho capito perché non è venuto Nordio è che tu hai dato una rappresentazione grottesca di Nordio ma non è così è che ho tutte le sue interviste dove lui diceva esattamente quello che ho detto io quindi tu hai detto adesso che tutte le cose che dice Nordio non gliele farete fare la domanda è perché l'avete nominato ministro potete farlo te il ministro perché ha un'intelligenza così luciferina che come un prestigiatore della parola riesce a travigliare a travisare tutti i fatti Nordio non ha ha detto altre cose quello che ho raccontato io con buona pace di Trevaglio che vedrà che questo sarà un governo inflessibile nel combattere la criminalità nel solco però di qualche diritto costituzionale dell'indagato dell'imputato che rimangono presunti non colpevoli fino a sentenza passata ingiudicato e quando avremo terminato il mandato magari lo spin doctor nostro diventerai tu perché ti renderai conto di quanto abbiamo ragione in termini di giustizia grazie Andrea Del Mastro quello che farà Nordio e quello che farà Fratelli d'Italia lo vedremo nel luogo in cui si fanno le cose cioè il Parlamento e quindi gli atti concreti con quello spirito tipico di Fratelli d'Italia di non aver mai alimentato lo scontro tra le fazioni il confronto anche duro approfondito ma sempre nel rispetto della correttezza istituzionale che caratterizza il nostro partito grazie a tutti per l'attenzione e il dibattito sulla giustizia continuerà molto presto grazie ancora Marco Travaglio Daniele Capezzone e Andrea Del Mastro buonasera a tutti grazie grazie a tutti 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 Grazie a tutti. 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 Buonasera a tutti. Grazie 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 a tutti. Buonasera a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti.